Ehi, che cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. E da Norlondo sai che io ti troverò. Ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani. Mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. L'impatto come adesso non lo sono stato mai. E' quando la reazione avviene. Se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia clima arriverà. E' quando la reazione avviene. E' quando la reazione avviene. E' quando la visa avviene. Complimento. Non mi sono mai posto questo problema. Fa abbastanza fresco? No, veramente, ragazzi, sto sudando da ogni poro, come è sano, penso che sia. E nulla, i miei capelli sono da rifare proprio. Bella Re Cesarone, grazie mille del Prime. Sudare fa bene, come diceva una vecchia pubblicità dei Deodoranti. Bella Snapporaz, grazie mille del Prime anche a te. Voglio cercare di stare un pochino più lontano dal microfono, perché poi non è necessario che io ci vada poi così addosso. 30 gradi, ma 30 gradi sei molto fortunato, RGB. Insomma, io ti invidio molto. Bella Peppozzo, grazie del Prime. Anche a te benvenuti, benvenuti ragazzi. Ci sono tutta una serie di articoli, di cose da guardare, ma come sempre le tematiche possibili sono tantissime. Sudore e colpa del capitalismo. Ovviamente, beh, oddio, si potrebbe dire. Questa, guarda, è quasi vero, eh, Fili, in realtà. Perché si potrebbe dire che vivessimo in una gigantesca ruralità, però, scusate, troppi bovini, non avremmo forse questo cambiamento climatico e allora bla 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 bla. Oh madre. Comunque sia, grazie, anche Giovin Signore, oltre a Mastrodome. Ah, sono contento, Fenix, hai fatto bene, hai fatto benissimo. Siamo qui per fare un talk, in realtà ci sono diversi articoli interessanti, ma, cioè, voglio dire, si è parlato di un libro, no? In questi giorni. Non sono ancora pronto per discuterne, però la questione è comunque interessante, ed è il libro del generale Vannacci, perché mi viene da dire Vannucci, ma è Vannacci, credo che sia. È il libro del generale Vannacci. Vannacci, sapete che ha scritto un libro bella cummerone, grazie mille, buonasera a te. Sapete che ha scritto un libro che si chiama Il mondo al contrario, e ho, è vero, viene da dire Vannacci, e ho avuto un'idea assurda, raga, ho fatto una cosa che è veramente strana, l'ho comprato, l'ho comprato su Amazon, perché ero curioso, in realtà mi sono già pentito perché non me ne frega già più un cazzo, però sul momento, vedi come funzionano queste cose? Ho proprio pensato, merda, prima di giudicare devo sapere che cosa cazzo c'è scritto in questo libro, ma cosa me ne frega, porca troia, e quindi ora ho comprato questo libro, che mi arriverà nei prossimi giorni, tipo domani, credo, bella Frank Noel, grazie mille del Prime, e no, è un libro, la cosa interessante, innanzitutto possiamo parlarne da un punto di vista del caso letterario, perché è un libro autopubblicato su Amazon che penso stia vendendo bene, sapete che primo in classifica non significa vendere tantissimi, anzi uno degli articoli che vorrei leggere stasera, se facciamo in tempo, perché ce ne sono diversi, parla anche di questo, comunque mettiamo che stia vendendo bene, voi sapete che la percentuale che il generale sta guadagnando dalla vendita di questo libro, visto che è riuscito ad avere regalata a una grandissima distribuzione, per così dire, una grandissima pubblicità, non è giusto dire distribuzione, distribuzione è solo quella di Amazon, ma insomma, visto la risonanza, lui guadagna una percentuale sul prezzo di copertina che credo sia sul 60%, non mi ricordo se il 60% o il 40%, comunque una percentuale molto più alta di quel 6, anche 5 a volte, anche 4 a volte, 10% che si guadagna con un editore, quindi ha fatto la bazza da questo punto di vista. Devo dire che le librerie capitolano, ma alla fine è Amazon, più che vannacci che fa capitolare le librerie. La cosa però interessante, secondo me, è che l'idea di un contenuto che qualcuno disapprova possa impattare una carriera. Questo è Bella Melonius, grazie mille. Questa è una cosa abbastanza orrenda. ci fa pensare in realtà a un conformismo imperante, per cui sembra quasi che non sia più neanche legittimo dire delle cazzate. Se noi partiamo dall'ipotesi che questo libro sia il peggiore libro mai scritto, sia pieno di stronzate e cose sbagliate, questo non dovrebbe avere nulla a che vedere, salvo che lui non vada a... e su Difesa Online c'è un articolo che riassume quelle che sono le regole per la libertà di espressione di un generale o comunque di un membro dell'esercito e non risulta che lui le abbia violate. Insomma, salvo che lui non faccia qualche cosa di illegale o comunque contrarie a regolamenti a cui è sul post, non si capisce perché una persona non possa scrivere le cazzate che preferisce e non si capisce perché ci sia una certa tipologia di fossero anche cazzate che devono avere delle conseguenze sulla propria carriera. Questa è una cosa che sinceramente non apprezzo e scusate che voglio fare una cosa, sto cercando di editare la chat in diretta, non per voi, eh? Come cavolo? Scusate. Però è una cosa che sinceramente non apprezzo proprio. Ah, stai cambiato. Infatti vedo che si comporta diversamente. Ah, scusate, solo una cosa. Ah, non riesco più. Vabbè, non importa. Perché spariscono, grazie mille anche a Dalle Piove e a Gabri, spariscono troppo in fretta i messaggi e quindi una volta si poteva regolare per lasciarli a schermo un pochino di più. Ora non lo riesco a fare. Sì, l'ho visto, è news, ma è una cosa assolutamente strana perché il libro essendo venduto su Amazon, Bella Chevalier, è strano andare a comprare in libreria un libro che non è distribuito nelle librerie. Quindi è... Poi magari ci sono librerie che se insisti te lo ordinano e te lo comprano loro su Amazon, ma sinceramente anche questo desiderio di fare i fighi, dicendo non vendiamo questo libro quando questo libro non lo vende nessuna libreria. L'ho trovato abbastanza interessante. Ma la cosa che non riesco veramente a capire è come non sia più, Scevalier e Grazia, scusami, non mi ricordo se ti ho già ringraziato, non sia più possibile dire stranzata in libertà. Questa è una cosa veramente per me, molto negativa, soprattutto considerando che le stranzate sono sempre quello che pensano gli altri, ovviamente mai quello che pensiamo noi, ma al di là di questo, la libertà d'espressione all'interno dei limiti di legge, ovviamente, perché la libertà d'espressione non è mai assoluta, ma la libertà d'espressione all'interno dei limiti di legge è assoluta, è un assoluto relativo ovviamente perché gli abbiamo appena dato dei limiti, però questa idea che essa venga a cadere dopo una verifica dei contenuti legali, diciamo così, è letteralmente un'idea censura. Poi nessuno per fortuna ha l'autorità di applicare questa censura, però comunque il fatto che vengano prese dei provvedimenti, per ora è stato avvicendato, penso che non succederà nulla, ma è qualche cosa, secondo me, di veramente... è veramente, come posso dire, il trionfo del conformismo, ma soprattutto è un conformismo che va alla velocità della luce, è un conformismo che va alla velocità di internet, per cui si bolla il libro da parte di persone che non l'hanno letto dopo un secondo, si parte immediatamente ai provvedimenti, inizia la shitstorm, inizia la polarizzazione, e boh, sono meccaniche che sicuramente giovano alla vendita del libro che a quanto pare ne era consapevole, visto che ho letto degli estratti, ma veramente, boh, non lo so, io vorrei... No, è stato avvicendato una procedura che non implica la sua destituzione, bella Celios, grazie mille, la... il diritto di scrivere stronzate, ammesso in un concesso che lo siano, visto che io il libro non l'ho scritto, ma stiamo seguendo l'ipotesi che ovviamente questo sia il capo dei cattivi, il diritto di scrivere stronzate è sacrosanto nel momento in cui non si infrangono le leggi che sono state fatte e poi sempre pronte per essere cambiate, si spera, grazie a Piragios, però nel momento in cui una persona rispetta la legge da un punto di vista della sua libertà di espressione ma che scriva le stronzate che vuole al limite si contro-argomenta questo... questo... per quale motivo leggevo quello che può scrivere un generale, il generale può scrivere quello che lui ha scritto, non è che lui non può scrivere la sua opinione, anzi c'è proprio tutto il regolamento delle cose, lui non deve sostanzialmente divulgare dei segreti militari e sputtanare la patria, insomma roba di questo genere, bella Arnot, bella Tosatto, non credo, Phil però, al limite potrebbe essere, ma insomma in ogni caso non credo, non credo ragazzi, ma non lo so, però da quello che ho letto mi sembra di no, non credo che lui abbia infranto codici di condotta e da quello che ho capito, ma ovviamente lo si vedrà, non è un'azione che lui ha fatto con incoscienza, ok? E soprattutto non è un... uno che non è a conoscenza di quello che può fare o non può fare, insomma. Che cosa? Che bab? Scusami, ti leggo perché è interessante quello che hai scritto, scusami. Tutte le recensioni da una stella su Amazon sono scritte da gente che non ha l'acquisto verificato, quindi non ha comprato il libro, quindi si basa... Non credo sia possibile. 60% di buc 70%. Scusate, vi chiedo una cosa per quanto riguarda Amazon, Bella Giormi. È possibile scrivere una recensione su Amazon di un prodotto che non si è acquistato? No, vero? Non ci credo. Non ci credo. No. Wow. 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 No, è... È una cosa... Wow. Wow, ragazzi. Ma io proprio totalmente per scontato. ma sono senza parole. Conta per la media? A quanto dicevano sopra credo di sì. Conta, sì. Ho capito che c'è l'acquisto verificato, però abbiamo già capito. Poi conta per la media. Wow. Fantastico, fantastico, fantastico. Perché è vero tecnicamente che potresti averlo acquisito altrove, però in teoria dovrebbero dirti se vuoi recensirlo su Amazon compralo su Amazon mi sembrerebbe abbastanza... È vero. Tra l'altro ne ho pensato al discorso TripAdvisor. Ok, 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 ok. Sì, 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 sì. Assurdo, assurdo, assurdo. Pazzesco, pazzesco anche il parallelo con TripAdvisor che è vero, ma non l'avevo mai visto in questi termini neanche in quel caso lì. Wow. 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 Incredibile. no, 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 hai fatto, madonna, 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 ma cosa stai dicendo? No, hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. No, no, la tua questione è giusta e l'unica obiezione che mi viene da dire è che credo, ma non sono un esperto da quello che ho letto sui siti di esperti, ma chi cazzo lo sa, quindi è comunque un principio di autorità, credo che lui non abbia infranto il regolamento che credo lui conosca molto bene e se la sia un po' studiata prima, però questo non significa che poi non possa rivelarsi come dici tu. In ogni caso l'idea di una wannabe cancel culture che in alcuni casi, soprattutto negli Stati Uniti, è stata qualcosa di più di wannabe in Italia, penso che sarà come al solito un fuoco di paglia, però è una cosa che la trovo sempre molto asfissiante, ma soprattutto, 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 e non mi ricordo se ti ho ringraziato, Giorgio Armi, grazie mille, anche Antonio, soprattutto per il diritto di dire delle cazzate, ma soprattutto il diritto di leggere delle cazzate. Partiamo sempre dall'ipotesi che questo libro sia il libro del capo dei cattivi e che sia pieno solo di stronzate. Io ho bisogno ogni tanto, magari è a questo che serve internet per non spendere dei soldi eventualmente, ma comunque facciamo finta, io ho bisogno ogni tanto di leggere le cazzate, ok? Perché le cazzate mi, anche se io non dovessi cambiare opinione su nulla, qualcosa fanno, qualcosa rettificano, se non altro, rettificano la percezione che io ho delle mie idee presso il mondo, no? Bella Dart, grazie mille, della serie. Io scopro che esiste, magari non lo sapevo, faccio per dire, io scopro che esiste un pensiero di questo tipo, sono fortemente in disaccordo, vedo che magari ha dell'approvazione, eccetera, eccetera, ecco che le mie idee non sono magari cambiate, ma ora so che si muovono in un contesto differente rispetto a prima. È molto importante che nei limiti della legalità, ok? sia chiaro, ogni volta che dico nei limiti della legalità non è inteso come un legalismo etico, non ritengo che ciò che è legale sia giusto, ma non mi passa neanche per l'anticamera del cervello, non ho nessun tipo di venerazione per la legalità, è semplicemente un criterio procedurale che ci siamo dati come specie, ok? È importante che nei limiti della legalità le cazzate e le non cazzate possano coesistere, naturalmente sarebbe meraviglioso che i mezzi che noi utilizziamo per intrattenere il cosiddetto discorso pubblico, dibattito pubblico, sarebbe bello che non fossero quelli che sono, cioè dei mezzi che sono non volontariamente ma darwinianamente selezionati, quindi costruiti per selezionare la merda e la cacciare, eccetera, eccetera, però il principio di base rimane anche perché poi autopromuoversi come autorità censoria o in qualche modo moralisti di Instagram finisce per essere piuttosto simile ad un'autovalutazione. Tra l'altro c'è il sì sì certo ovviamente Postman sempre presente come riferimento per me c'è è uscito da poco voi probabilmente non lo seguite ricordatemi del video di Nasca voglio rispondere a Stefano che disse una cosa interessante l'avesse detto un generale americano secondo te non sarebbe stato subito destituito e non lo so perché dipende come sono i regolamenti lì quindi la risposta giusta è chissà quali regole deve rispettare in questi casi un generale americano quindi questa credo sia la risposta più corretta per quanto riguarda non il generale ma l'America ed era sul Post ma non lo troverò più c'era un Ipsed Exit di qualche l'ultimo che ha fatto Nasca c'era un Ipsed Exit di qualche giorno fa di Biden ok sulla Cina sapete che insomma le cose da un punto di vista economico in Cina non sembrano più così solide bla 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 e c'era questo Ipsed Exit di Biden mi scuserete se non lo cito alla lettera ma lo potete trovare facilmente ma veramente tre frasi diceva per la Cina le cose vanno male e questo è un problema perché quando per i cattivi le cose vanno male fanno cose cattive questo diceva Biden veramente non è citazione alla lettera ma ci siamo molto vicini ok questa cosa mi ha molto colpito per rimanere un attimo in discorso America perché Biden ha detto questa cosa questo linguaggio che è un linguaggio da non so neanche come definirlo teniamo fermo che la Cina è l'impero del male l'orrore assoluto non è un giudizio sulla Cina questo linguaggio è lo stesso linguaggio che usava diciamo tre presidenti fa George W. Bush ok Trump faceva di peggio ovviamente mentre invece Obama è stato un grandissimo oratore e aveva evidentemente un grandissimo team però noi abbiamo avuto George W. Bush che ha avuto due mandati se non erro da presidente credo di sì e poi vabbè ok abbiamo avuto Trump quando era George W. Bush a parlare di l'asse del male i paesi canaglia bella tannino grazie mille noi ci noi noi i buoni inorridivano anche e soprattutto per la sua scarsissima proprietà di linguaggio per il suo essere un presidente assolutamente raffazzonato in realtà un presidente di fatto improvvisato come si sa George W. Bush era una sorta di frontman di un team che era la vera presidenza lui era un incompetente totale ovviamente ed erano proprio frasi alla Bush Junior queste qua e tutti ci schifavamo adesso in questa epoca di grandissima polarizzazione siccome non vuoi sembrare il putiniano o che cazzo ne so io se uno parla così che è il delirio di una persona che non ha probabilmente più l'età per fare presidente va tutto bene cioè questo ho detto questi sono i cattivi e quando i cattivi stanno avendo dei problemi fanno cose cattive Vez io non credo che sia così grazie frattone che dovrebbe esprimersi un presidente degli Stati Uniti e non è la prima volta ovviamente per quanto riguarda Biden è logico che veniamo da una presidenza che è quella Trump ancora più pericolosa al di là del discorso linguistico mentre Biden come George W. Bush a cui in realtà assomiglia tanto e questa cosa è molto interessante per come la stessa area mediatica che demoliva George W. Bush tiene su un palmo il buon Biden il nostro petomane preferito prima di lui c'era Trump che ha una caratteristica che lo rende molto più pericoloso di questi due mentre Bella Hertz mentre un Bush Junior o un Biden sono abbastanza marionette dei professionisti dei veri pezzi grossi che fanno parte ovviamente della sua amministrazione e la gestiscono di fatto Trump è quel genere di leader che il tirapiedi che gli dà torto è licenziato quindi ha una tipologia di atteggiamento che è molto più simile a quella del dittatore e quindi è molto più pericoloso questo lo voglio specificare in ogni caso mi ha veramente colpito questa cosa per il discorso del video di NASCAR lui ha fatto questo video di 10 minuti non c'è neanche bisogno di starlo a guardare ha parlato della storia di questo pilota pilota di NASCAR americano che durante la pandemia siccome tutti i campionati automobilistici erano fermi tutti i piloti erano su Twitch quindi sia quelli della Formula 1 quelli europei che quelli americani faceva le sue gare su Twitch questo è un pilota fortissimo lui l'ha definito una sorta di di Verstappen americano quindi pilota super mega forte che vince tanto eccetera eccetera no no NASCAR è lo youtuber quello che si occupa di Formula 1 cioè di automobilismo ed è anche pilota bla 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 tutto questo per dire che questo pilota in live disse la N-Word che stiamo ben attenti disse la N-Word scherzando a un suo collega perché non aveva capito come funzionava la chat vocale di iRacing così in scherzo non vi dico ovviamente lui perse tutte le sponsorizzazioni fu licenziato dal suo team e poi è una storia con happy ending e quindi NASCAR fa una critica giusta secondo me a questa follia censoria da inquisizione da politically correct quando il wannabe censorio diventa effettivo e poi c'è il happy ending lui torna dopo un anno di redenzione in cui ha fatto servizi sociali ha fatto tutte le scuse del caso eccetera eccetera siccome è un pilota della Madonna trova una squadra della Madonna e comincia a vincere di brutto perché questo qua è forte sul serio benissimo la cosa che mi ha che mi ha colpito è che anche per NASCAR ah beh è proprio una bella una bella ho capito Ghost anche per NASCAR è proprio una bella storia di redenzione perché lui ha fatto questi servizi sociali eccetera eccetera il fatto che questa persona per aver detto una parola che come qualunque parola andrebbe contestualizzata trovo quindi non ha come NASCAR questo lo dice non ha offeso nessuno non era in nessun modo razzista quello che lui stava facendo dicendo il fatto che lui che questa persona libera ok abbia perso tutto quello che ha perso che non è poco in realtà ma poi abbia anche dovuto fare dei servizi sociali eccetera eccetera è una mostruosità per me è una totale mostruosità siamo siamo veramente è giugizio davvero 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 e quindi ripeto il libro del generale mi sono già pentito ad averlo perché sul momento ho proprio detto ah cazzo voglio proprio leggerlo per sapere che cosa dice due giorni dopo non penso che me ne freghi granché ho letto che sono più di 300 pagine se è come credo è molto improbabile che lega più di 300 pagine e così ciò nonostante poi altra cosa che voglio dire non conosco questo generale vannacci non ho idea di che tipo sia ci siamo capiti sulla sua area politica idee eccetera eccetera leggevo molto sbertucciato ridicolizzato eccetera eccetera sarà quel che sarà in ogni caso ha le sue tre lauree parla cinque lingue quarant'anni di servizio mi viene da dire che probabilmente non è neanche l'ultimo degli stronzi ciò non togli che possa non essere in grado di scrivere un testo saggistico possa aver detto una marea di stronzate però insomma mi fa sì ma anch'io ho letto degli stralci del libro e sono non sono diciamo così al di là delle idee non sono molto solidi secondo me da un punto di vista logico perché unisce cose sensate da quello che ho capito ad alcune posizioni che però non sono sostenute dalle cose eventualmente sensate che può avere detto a quanto pare fa un utilizzo dei dati un po' un po' così quindi non credo sia un libro molto valido però è vero che bisogna leggerlo cioè è terrificante dire che quello che ha detto Salvini è vero è pazzesco vabbè comunque e comunque ripeto il diritto di dire delle stronzate entro i termini di legge e ripeto ancora non vuole essere una nobilitazione dei termini di legge è semplicemente un criterio che ci siamo dati per non scannarci secondo me è ancora abbastanza valido ci sono passaggi chiaramente razzisi probabile 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 sì 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 non metto in dubbio che le sue lauree siano in ambito militaristico strategico non sono comunque niente trovo comunque non penso che una laurea in ambito umanistico valga più di una laurea in ambito militaristico strategico se è questo che vogliamo implicare magari una laurea in fisica io non so cosa mi avete linkato o no non ne voglio adesso grazie comunque in tutto questo sempre considerando il fatto che tutti noi sappiamo e diamo per scontato ma certo che la laurea non è sinonimo di null'altro che della laurea sia ben chiaro sia ben chiaro il suo curriculum militare non è sinonimo di altro che del suo curriculum militare però sti cazzi nel senso un po' un po' di rispetto me lo suscita se devo dirvi la verità comunque sia tutto questo sempre in questa convinzione in questa semplificazione per cui secondo alcuni che forse non ne sono del tutto consci il mondo si divide in due categorie non so se ve ne siete accorti anche voi da una parte ci sono banalmente potremmo dire i buoni e i cattivi ma sarebbe troppo facile cerchiamo di andare un pochino più a fondo le due categorie in cui si divide il mondo mi viene in mente il buono e il brutto e il cattivo le due categorie in cui si divide il mondo sono gli abbonati del post categoria 1 Hitler categoria 2 ricordate se 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 non se non sei un abbonato del post mi sa che sei Hitler questo dovete tenervelo presente perché alla fine ma resla i non abbonati che cos'altro potrebbero essere esattamente esattamente oppure se volete se volete gli abbonati del post platea dei talk di Breaking Italy allora vediamo un pochino delle bazzille allora qui abbiamo delle cose da leggere il primo è un articolo che mi ero ripromesso di leggere sto facendo cazzate aspettate ho fatto una serie di misclick allora questo articolo filosofico che è stato pubblicato dal nostro buon frazuk su Silicon Arcadia che non ho letto e che voglio leggermi in blind perché mi ispira molto mi ispira molto il titolo e quindi magari è interessante stiamo a vedere non mi sembra lungherrimo quindi non dovrebbe essere particolarmente faticoso attraversarlo il titolo a parte che è tutto un capolavoro assoluto ma su ciò che importa la felicità è tutto ciò che conta affinché una vita sia una buona vita e quando si dice madonna le grandi domande interessante di Linus Tech me l'hanno segnalato in tanti io non lo sapevo mica me l'hanno segnalato in tanti su Instagram vedo che c'è molta ricettività ora su queste cose a proposito abbiamo anche un articolo qua anche questo non l'ho letto di Internazionale che sembra carino potrebbe essere un grosso CVD quindi l'ennesimo potrebbe anche non interessarci però essendo situato in ambito letterario venendo dall'Economist quindi non Hitler non esistono più le stroncature di una volta qui si parla di critica e si parla dell'ambito letterario che dovrebbe essere quello più safe più safe nel senso quello più salvo dalle meccaniche che ben conosciamo poi c'è questo articolo che non so se sarà interessante ma mi ispira sempre perché è un articolo che mi spiega che cos'è Bologna e poi qua sulla murgia in realtà sarebbe da leggere anche quello che scriveva Francesco Costa Bella Maxos grazie mille del Prime e vedi 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 gli articoli di Matteo li avrei voluti leggere anch'io l'unico motivo per cui vorrei probabilmente un giorno li leggerò questi cazzi me lo spoilero ah ok non ora non ora ti ringrazio abbiamo più materiale del necessario ma la domanda la domanda del sottotitolo del buon frazzo che è tra le più incredibilmente importanti la felicità è tutto ciò che conta affinché una vita sia una buona vita non preoccupatevi non penso che sia conoscendo Frazzuc non immaginatevi una cosa che si parla di videogiochi potete rimanere connessi se non siete appassionati di videogiochi credo e tu demone è un videogioco del 2011 creato da Kangao per la Freeboard Games si tratta di un adventure game sviluppato con RPG Maker dalla grafica in pixel art trama abbastanza semplice la dottoressa Eva Rosaline e il dottor Neil Watts lavorano per la Sigmund Agency of Life Generation un'azienda fondata con lo scopo di aiutare gli esseri umani a realizzare un desiderio attraverso l'impianto di ricordi artificiali questo processo viene effettuato esclusivamente su persone che si trovano nelle fasi finali della loro vita in modo da assicurare loro una morte serena e senza rimpianti considerando che tali ricordi potrebbero entrare in conflitto con le loro convinzioni autentiche ok da altro complimenti alla capacità di sintesi e non so se è senza credo che sia senza no forse è spoiler forse è spoiler forse è spoiler sul gioco credo abbia spoiler non so non so se c'è frazzo credo abbia spoiler non so all'inizio del gioco i due dottori arrivano presso una maestosa ok ce li ha una maestosa di Mora costruita su una scogliera situata in prossimità di un faro al suo interno risiede l'anziano Johnny Wise che si trova ormai in prossimità della morte e i Vanille devono esaudire la volontà del paziente di andare sulla luna e per farlo devono risalire al motivo che sta alla base di questo desiderio entrando nella mente del paziente e risalendo ai suoi ricordi più remoti l'impresa è complicata dagli intricati rapporti del paziente con la ormai deceduta moglie River e con il fratello Joy alla fine spoiler alert i due dottori riescono a ricostruire al meglio la vita di Johnny risolvendo i suoi problemi realizzando il suo sogno di andare sulla luna nella scena finale lo shuttle si avvicina alla luna mentre in sottofondo sentiamo il suono dell'elettrocardiogramma di Johnny che ne annuncia la morte sebbene sebbene e Vanille riescano nel loro intento al lieto fine del gioco si accompagna però un certo senso di amarezza da un lato abbiamo fatto un buon lavoro nel senso che abbiamo esaudito i desideri del paziente tuttavia ci sembra anche che qualcosa sia andato perduto bello matto grazie mille la nuova vita di Johnny sebbene più felice di quella vecchia è davvero migliore vita quel pochissimo che ne rimane nel senso ricostruita ma poi la vita va spediendosi più precisamente grazie ai dottori della Sigmund Agency Johnny ha realmente vissuto una vita migliore l'esperienza o il ricordo di una vita costruita appositamente per esaudire ogni nostro desiderio ha lo stesso valore di una vita imperfetta ma reale in realtà questa domanda è strana perché per quanto il gioco apparentemente lo facciano non so se confronterei una vita reale con un innesto premorte diciamo così perché qui la domanda dovrebbe essere la vita e il ricordo della vita sono la stessa cosa piuttosto ok sì 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 Jovis assolutamente sì assolutamente sì il filosofo americano Robert Nozick per Johnny è una vita migliore ma questo è uno dei paradossi del gioco cioè nel senso rimane il fatto che è un innesto insomma il filosofo americano Robert Nozick si è posto una domanda molto simile nel suo libro del 74 l'anarchia ha stato bella donato grazie del prime e utopia in cui nel contesto di una critica dell'utilitarismo come teoria politica propone il seguente esperimento mentale ah non c'è dubbio che bambino ci ricordiamo ciò che siamo questo è fuori di dubbio supponiamo che esista una macchina dell'esperienza capace di darci qualsiasi esperienza desideriamo vabbè ok diciamo che è simile non è proprio la stessa cosa comunque un gruppo di neuropsicologi eccezionali si offre di stimolarci il cervello in modo da farci pensare sentire come se stessimo scrivendo un grande romanzo se leggessimo amicizia o leggessimo un libro interessante che mondo cos'era il 74 questo rendeva felici nel 74 no forse rendeva felice un grande filosofo per tutto il tempo galleggeremmo in una vasca con elettrodi applicati al cervello resteremmo collegati a questa macchina per tutta la vita pre-programmando le nostre esperienze ok resteremmo collegati a questa macchina per tutta la vita pre-programmando le nostre esperienze ci collegheremmo a questa macchina che altro può importarci se non come sentiamo le nostre vite dall'interno per Nozick la risposta è negativa non sceglieremmo di entrare nella macchina perché noi vogliamo fare certe cose non soltanto avere l'esperienza di farle inoltre per noi è importante essere in un certo modo essere un certo tipo di persona galleggiare in una vasca significa essere un qualcosa di totalmente indeterminato ovvero anche se all'interno della simulazione prodotta dalla macchina noi compissimo imprese eroico scrivessimo bellissime poesie ciò non ci renderebbe delle persone coraggiose né dei grandi poeti saremmo solo delle persone in una vasca con degli elettrodi collegati in breve per Nozick non faremmo uso di una simile macchina dell'esperienza perché sappiamo che c'è qualcos'altro che ci importa oltre l'esperienza ma in che senso il punto è tutto qui se lo sai non lo fai se non lo sai lo fai e non sai di starlo facendo quindi è quasi meglio Matrix in realtà è il discorso del tizio che voleva tornare a mangiare la carne sono d'accordo con quello che ha scritto Federico secondo me la domanda di Nozick non c'è utile in chiave to the moon perché Nozick chiede quale scelta faremo per la vita che ancora dobbiamo vivere non saremo alla fine con dei rimpianti del passato esattamente bella Dust grazie del Prime e quindi onestamente è chiaro che se tu sai di essere in un cervello di essere un cervello nella vasca collegato a degli elettrodi stai vivendo delle esperienze ma hai sempre un retrogusto che dice ok però sono sempre un cervello irurale la vasca collegato a degli elettrodi se gli elettrodi e tutti i mega psicologi super più hanno il potere di farti dimenticare non farti sapere che sei un cervello in una vasca collegato a degli elettrodi non esiste più nessuna differenza fra un'esperienza reale e un'esperienza indotta proprio perché anche l'esperienza reale in qualche modo è indotta quindi ci sono già una serie di scalini che secondo me ci sono delle fratture in questo to the moon non lo legherei tanto se devo dire la verità magari matrix più che altro il paradosso così riassunto attenzione che qua banca uno spazio il paradosso così riassunto è abbastanza esattamente esattamente Phil io so che questa non è una bistecca ma voglio tornare a non sapere che non è una sucosa bistecca esattamente quindi grazie al cazzo che nel cervello in una vasca sapendo di essere solo un cervello in una vasca non te la godresti alla grande l'esperienza mentre invece è tutto lì quindi ma andiamo comunque avanti ciò che esiste intuitivamente riconosciamo che c'è una differenza tra un mondo immaginario e quello reale la persona dentro la macchina dell'esperienza di Nozick sta vivendo nel mondo dei sogni traendo piacere da cose che non sono reali molti filosofi concordano infatti con Nozick secondo un sondaggio del 2020 tra i filosofi professionisti che hanno partecipato solamente il 13% entrerebbe nella macchina dell'esperienza mentre il 77% si rifiuterebbe ok ripeto è tutta una questione di consapevolezza è tutta una questione di consapevolezza proprio perché non possiamo essere così naif da pensare che il reale ci si dia senza una mediazione del nostro cervello quindi il nostro cervello media sempre la realtà se noi in un scenario fantascientifico potessimo gestire completamente questa mediazione non avremmo bisogno in realtà non è vero che non avremmo bisogno avremmo bisogno di una realtà sì ma la realtà sarebbe quella del diciamo degli accrocchi che dovrebbero servire per manipolare il cervello quindi non sarebbe possibile farlo senza una realtà ovviamente cioè in ogni caso il cervello nella vasca non può essere un irrealismo perché una realtà esiste sempre anche vivessimo nella famosa simulazione ci sarebbe comunque qualcuno che vive al di fuori ovviamente sono d'accordo Federico sono d'accordo Federico credo Fenix che è una domanda giusta credo che forse quelli che lavorano come filosofi nel senso che in università o forse che vendono libri di filosofia non lo so probabilmente sì Phil chi lo sa insomma la questione continua ad eludere il punto centrale so di essere un cervello nella vasca o no perché questa idea che la realtà esprima se stessa indipendentemente esprima se stessa verso di noi indipendentemente dalla mediazione del nostro cervello è piuttosto è certo che esiste una realtà indipendente dal nostro cervello ovviamente sì ma il nostro cervello è un potremmo dire un rielaboratore della realtà quindi e noi non possiamo noi non possiamo non essere il nostro cervello non esiste non esiste una situazione in cui noi smettiamo di essere il nostro cervello e siamo una entità magica che è a totale contatto aderente con la realtà e questa cosa non si dà quindi sono quelle questioni filosofiche che a me sembra più dei giochi di parole che altro però andiamo avanti tuttavia la differenza apparentemente ovvia tra mondo immaginario e mondo reale potrebbe apparire più ambigua se ci soffermiamo su cosa intendiamo precisamente con immaginario e reale ovvero mentre per Nozick c'è una distinzione tra il fare certe cose e la vera esperienza di farle qualcuno potrebbe argomentare che questa distinzione sia in realtà meno chiara di quanto sembri se dal mio punto di vista sì ma input naturali e input artificiali nel momento in cui sono input ed essendo che l'artificiale in fin dei conti è naturale solo parlando di avere o non avere una certa tecnologia è praticamente fantascienza però è molto interessante quello che hai scritto Diego ci sono fior di libri di bioetica che parlano di quella cosa lì molto interessante e tra l'altro assomiglia molto ai temi di Soma a proposito perché di fatto sono due persone diverse è molto molto interessante il discorso Alzheimer e comunque le demenze mentre per Nozick c'è una distinzione di fare certe cose o avere l'esperienza di farle che è detta così qualcuno potrebbe argomentare che questa distinzione sia in realtà meno chiara se dal mio punto di vista di soggetto agente non cambia nulla tra una passeggiata nel mondo fisico reale e una passeggiata simulata nella macchina dell'esperienza perché dovrei valutarla diversamente perché dovrei considerare una più reale rispetto all'altra ancora una volta non cambia nulla nel senso che non ne sono consapevole non sono del tutto non ho del tutto capito e su questa linea il filosofo australiano David Chalmers ha sostenuto che la realtà virtuale non è una realtà di secondo livello in realtà virtuali perfette gli utenti potranno costruire le loro vite come vogliono genuinamente interagendo con gli altri e conducendo una vita ricca di significati e di valore ok Chalmers definisce la sua concezione una forma di realismo virtuale ovvero la tesi secondo la quale la realtà virtuale è genuinamente una realtà e non un'illusione nel contesto di una simulazione virtuale gli oggetti intorno a noi sono reali e non illusori sono esattamente come sembrano certo gli oggetti in una realtà virtuale sono oggetti digitali strutture di 0 e 1 e non oggetti fisici composti da atomi ma sono perfettamente reali nel mondo fisico gli oggetti sono fisici nel mondo virtuale gli oggetti sono digitali ma il mondo fisico non è più reale di quello virtuale si tratta semplicemente di due realtà che amarezza leggere sta roba ragazzi grazie a The Mad Monkey grazie mille mamma mia questa non 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 ce l'ho con Chalmers non con Frazuk questa roba è amarissima da leggere è amarissima qui siamo veramente a prendersi a farsi prendere la mano dalle nostre metafore e dalle nostre suggestioni sta roba non vuol dire un cazzo ragazzi non vuol dire letteralmente niente ma che cazzo non sono oggetti fisici composti da atomi nel mondo fisico gli oggetti sono fisici nel mondo virtuale gli oggetti sono digitali wow spoiler non esiste altro che il mondo fisico il mondo virtuale è fisico il mondo digitale è fisico sono sempre atomi di che cosa cazzo stiamo parlando wow wow quindi un'immagine al cinema non è reale non è fisica ma non c'è veramente una persona non è veramente un treno che mi sta venendo addosso quello quindi è fantasia è anima ma di cosa cazzo stiamo parlando sono sconvolto ragazzi come può una persona del genere guadagnarsi da vivere facendo filosofia dio madonna incredibile porca misera giocare con merda mi scoccia io odio citare Wittgenstein quando le parole quando il linguaggio gioca con se stesso assurdo ma quante seghe ci si fanno su sta cosa viviamo in una simulazione è reale o non è reale eccetera eccetera quando c'è un'illusione ottica vediamo cose che non ci sono siamo entrati nel mondo della magia cioè il nostro cervello che cos'è la copia a carbone della realtà ma che cosa cazzo stiamo leggendo che cazzo di livello di analfabetismo semiotico devi avere per dire certe stronzate io sono senza parole la domanda sorge quindi spontanea che cosa significa realtà porco noi usiamo il termine realtà io mi sto per incazzare noi usiamo il termine realtà in almeno tre modi diversi come entità madonna ragazzi comunque ragazzi la filosofia fa male cioè boh secondo me la filosofia generalmente fa più male che bene ne sono assolutamente convinto cioè se hai culo di leggere autori con i piedi per terra che non sono dei cazzari ne puoi uscire anche meglio di come ne sei entrato ma se inizi a prendere sul serio questi autori qui ma ragazzi ma c'è la gente che riempie libri di sti cazzo di giochi di parole ma tu li puoi sbobinare in un secondo e vedere non c'è scritto un cazzo guardate che è amarissima sta roba io non so veramente allora tre modi per la realtà come entità la realtà è tutto ciò che esiste quindi in questo contesto tutto ciò che è fisico più tutto ciò che è virtuale boom boom questo più è letteralmente dio questo più è letteralmente dio chissà se lo sapeva il buon non mi ricordo il nome che vergogna come si chiamava il gigante di sega autore di Shammy Virtua Fighter Yu Suzuki chissà se sapeva Yu Suzuki quando ha creato Virtua Fighter Virtua Racing che stava uscendo dal mondo reale io sono senza parole comunque quindi questa è la realtà come entità come mondo cioè come spazio interconnesso e completo io sto male io sto male quindi il mondo fisico da una parte e il mondo virtuale dall'altra come proprietà alcune cose sono reali altre no quindi realtà come realità cioè come proprietà di essere reale wow wow mamma mia mamma mia nella visione di chalmers madonna nella visione di chalmers questi tre sensi coesistono la realtà uno contiene molte realtà due e queste realtà sono reali tre il punto della scordia è soprattutto il tre come dobbiamo intendere reale c'era un aia eravamo in campagna c'era un aia e c'era un cane e io ho preso il cane e l'ho portato in giro per l'aia ma continuavo a portarlo in giro per questa aia il cane si divertiva davanti innanzitutto qualcosa è reale se esiste davvero porco porco i cavalli sono reali sono parte dell'universo gli unicorni no giocare con le parole giocare con le parole giocare con le parole prendere le parole sul serio il fatto che gli unicorni non esistano non significa che esista qualche cosa che non è realtà ah Woody è interessante quello che dici il fatto che il qui e ora è in realtà io da quelle mie esperienze malati di alzheimer comunque una brevissima memoria ce l'hanno ma il discorso del qui e ora è un'altra di quelle metafore che non va presa troppo su se è una buona indicazione stai qui e ora nessuno è mai stato qui e ora il nostro cervello è fatto di ricordi e proietta ipotesi sul futuro solo pensare e proiettare ipotesi sul futuro quindi stare nel qui e ora è un buon consiglio mi piace ma è comunque un modo di dire stiamo attenti stiamo attenti perché sennò uno rischia di rimproverarsi tutta la vita perché non è mai riuscito a stare nel qui e ora spoiler non c'è mai stato nessuno vedi un bebo comunque sia che fatica la vita oddio come sto a soffrire come sto a soffrire quanto dolore mi dai inoltre essere reale significa avere poteri causali ogni oggetto che percepiamo ogni oggetto che percepiamo ha poteri causali causai perché può produrre una differenza in noi che lo percepiamo ah ma fino a che punto c'è nel senso Woody che vuol dire fino a quel punto lì non saprei che cosa dirti The Mad Monkey benvenuto nella filosofia ma chi l'ha detto? l'ha detto ciao Ambers è così fine ragazzi però ve lo dico se leggetto Umberto Eco non è così cioè Umberto Eco fa bene al cervello un altro elemento fondamentale è l'indipendenza dalla mente come ha scritto Philip Dick buono quello la realtà ah Philip Dick Philip Dick Philip Dick Philip Dick Philip Dick lo mettiamo con Tolkien c'è Philip Dick c'è Tolkien no dai me ne sto tranquillo che è meglio perché poi ne lasciamo per grandissimo io adoro ho letto una marea di romanzi di Philip Dick quando ero l'adolescente che è il target dei romanzi di Philip Dick la realtà è quella cosa che quando smetti di crederci non se ne va ovviamente la realtà non è illusoria cioè è più o meno come sembra oh madre oh mamma mia vorrei parlare di questa frase vorrei parlare di questa frase la realtà è non illusoria cioè è più o meno come sembra vorrei parlare di questa frase ma io porca puttana ma Dio ma cioè soltanto tutta la storia della scienza si basa sul fatto che la realtà non è come sembra e sul fatto che i nostri sensi sono dei pessimi approssimatori dello stato reale dei fatti che il nostro cervello anche la scienza ti spiega quello che ti spiegano i filosofi seri cioè che il nostro cervello non fa la copia a carbone della realtà perché non è in grado e non ha senso da un punto di vista evolutivo ergo usiamo il telescopio il microscopio per vedere eccetera eccetera porco infine come suggerito da Austin la domanda rilevante non è tanto se qualcosa è reale ma se un certo oggetto sia realmente quell'oggetto invece di chiedere se x è reale dovremmo chiedere se questo oggetto che mi sembra un x sia realmente un x ok astregone quantistico questo questo non te lo posso rifiutare aspettate devo schippare questa pubblicità è colpa mia è colpa mia è colpa mia è colpa mia me ne pento me ne dolgo me ne scuso è colpa mia lo so dovevo fare l'abbonamento non l'ho fatto schippa non posso schippare no grazie oh il pragmatismo e ci arriviamo e dopo 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 voglio prima finire l'articolo mettiamo qua no anzi dai però è che mi devo mettere le cuffie sto sudando no fermati ma chi ti ha fatto partire quando ti vedo qualcosa ti vedo solo la luce o la cosa che ti guarda è una delle cose filosofiche che un personale non ha difficoltà con ragazzi quanto è bello quanto è bello quando l'intelligenza incontra l'onestà intellettuale quanto è bello quanto fai ma non fregava un cazzo di impressionare la gente quanto non è stato un prenditore per il culo ed era pure bello era pure un bell'uomo va bene mamma mia mamma mia ragazzi le facoltà di filosofia porco dio cioè accidenti infine come sono la domanda invece di chiedere se x è reale dovremmo chiedere se questo oggetto che mi sembra un x sia realmente un x abbiamo quindi cinque criteri esistenza causalità indipendenza dalla mente non illusorietà e genuinità quando diciamo di qualcosa che è reale intendiamo o una o un mix di alcune di queste cose secondo chi diversi aspetti sono ovviamente rilevanti per scopi diversi ora per Chalmers questi cinque criteri questi cinque criteri si applicano sia alla realtà fisica ma questo Chalmers ce lo dovevamo proprio portare a letto ci dovevamo proprio scopare con Chalmers non si poteva vivere senza Chalmers ora per Chalmers questi cinque criteri si applicano sia alla realtà fisica nella quale viviamo sia a una oggi ancora ideale realtà virtuale completa su questo completa si potrebbe discutere però un po' quel criterio un po' fanta scientifico i cinque criteri della realtà si applicano quindi anche a una simulazione perfetta in una simulazione perfetta le cose sono perfettamente reali anche se ora ci trovassimo in una simulazione come ipotesi e il fatto che non c'è nessun bisogno di usare l'immagine mentale della simulazione completa non c'è nessun bisogno di nessuno sforzo di immaginazione fantascientifica basta prendere una persona al cinema che sospende l'incredulità e quello che succede nel film diventa reale ed è una sospensione dell'incredulità una persona con delle tari mentali purtroppo può non essere capace di entrare ed uscire dalla sospensione dell'incredulità è il nostro cervello ma di cosa stiamo parlando anche a sera ci trovassimo in una simulazione come impositato immaginando se fosse un genio maligno che ci inganna su ogni percezione all'interno della simulazione le nostre credenze sul mondo sarebbero comunque valide nel contesto del mondo che noi chiamiamo reale gli oggetti di questa esperienza sono reali è possibile ingannare una persona e farle credere che una cosa non vera sia vera ci succede tutti i giorni che scoperta grazie al io non lo so David Chalmers quindi ammette la possibilità del dubbio scettico secondo il quale tutta la nostra realtà sarebbe il prodotto di un genio maligno o di scariche elettriche sul nostro cervello in una vasca partiamo da un presupposto tutto ciò che noi percepiamo come reale è comunque il risultato di scariche elettriche sul nostro cervello che il nostro cervello sia in una vasca o che sia nella scatola cranica è sempre un cervello e questo è il punto della totale che non mi è mai interessato un cazzo di questo cazzo di paradossi di merda della totale come si può dire oziosità di questi ragionamenti lo vuoi mettere in una vasca lo vuoi mettere in una scatola cranica e il cervello funziona in quel modo lì approssima la realtà che ha di fuori con tutti i suoi limiti tutte le sue tare chiama le tare insomma fa anche quello che fa la bistecca sa magna e quindi e quindi oh ma lo sai che le tue percezioni audiovisive tattili sensoriali non sono esattamente nella realtà così com'è don't say ma io PD e proprio perché non possiamo escludere questa possibilità non ci sono motivi per non considerare il mondo in una realtà virtuale perfetta come altrettanto reale bella mister rip bella salitore grazie in questo modo la distinzione intuitivamente ovvia tra fare qualcosa e avere l'esperienza di farlo viene meno gli oggetti di un mondo virtuale sono reali all'interno del mondo virtuale e gli oggetti del mondo fisico sono reali all'interno del mondo fisico che tra l'altro sulla base di tutto quello che mi hai detto tu ma il mondo fisico sarà realmente un mondo fisico sarà un mondo fisico sarà un'altra simulazione e se la simulazione fosse dentro una simulazione dentro una simulazione dentro una simulazione dentro una simulazione avete presente Dio avete presente Dio cosa si dice di solito quando si parla di Dio quando qualcuno sostiene l'esistenza di Dio che cosa si dice di chi è l'onere della prova di chi sostiene l'esistenza di Dio questo possiamo dire ok e se fossimo in realtà semplicemente il risultato del peto di un elefante cosmico non è da escludere ma e se, e se, madonna, madonna, madonna pendolo di Foucault, non mi ricordo la pagina, perdonatemi il capitoletto, ma quante volte ve l'ho detto ma una volta l'ho anche letto, quello di Jacopo Belbo e se fosse e se fosse e se fosse l'argomento di Chalmers si fonda su una radicale contestualizzazione dei nostri giudizi possiamo dire correttamente che un oggetto virtuale è reale solo se noi siamo in quella realtà virtuale voglio veramente morire voglio morire non possiamo dire che la nostra realtà non è reale perché ciò che noi intendiamo per reale è precisamente questa realtà sapete che noi siamo un cervello e non possiamo non essere il nostro cervello perché noi siamo il nostro cervello non so se ve lo potevate immaginare anche se la nostra realtà fosse prodotta da un genio maligno per ingannarci ciò che noi chiamiamo reale e vero è tale solamente all'interno di questa realtà ed è dentro questa realtà che viviamo le nostre vite con le loro esperienze e i loro valori ora uno magari una persona brutta magari Hitler si potrebbe fare una domanda siccome io ero il cane e tu mi hai menato per l'aia fino adesso a che pro l'hai fatto? di che cosa siccome il nostro cervello elabora stimoli esterni ok tra cui quelli propri oggettivi e volendo ovviamente un famoso macchinario del cervello una vasca dovrebbe anche simulare il corpo ammesso poi per quale motivo dovrebbe desiderare simulare e quell'esperienza corporale quando hai vabbè chi se ne frega siccome il nostro cervello elabora stimoli esterni il nostro cervello chiama la realtà ciò che gli arriva dagli stimoli esterni stante che non esiste altro che la realtà fisica che sia un'illusione ottica quindi non c'è nessun bisogno di mettere un cervello nella vasca che sia il film e la sospensione dell'incredulità che siano alcune tare problemi cerebrali eccetera eccetera ciò nonostante la realtà esiste ed è la realtà fisica la realtà virtuale è fisica non è nel momento in cui crei la realtà virtuale finale anche se il soggetto dovesse credere che dovesse essere tratto in inganno al punto da sprofondare in una sospensione dell'incredulità per tutta la vita ciò nonostante la realtà fisica continua ad esistere ed è l'unica cosa che esiste fino a prova contraria e sfido alla prova contraria e qui in tutto questo che cosa cazzo stiamo dicendo dove stiamo andando chi siamo dove stiamo l'argomento di Chalmer madonna Chalmer poi poi adesso frazzuc non so magari Chalmer sembra un figo adesso non vorrei però da qui non esce bene l'argomento di Chalmer sicuramente l'avrò anche studiato a filosofia non mi ricordo un cazzo l'argomento di Chalmer si fonda su una radicale contestualizzazione dei nostri giudizi oddio l'ho già letto ok anche se la nostra realtà fosse prodotta da un genio maligno ok 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 ed è dentro questa realtà che viviamo le nostre vite con le loro esperienze e il loro valore ma nel caso della macchina dell'esperienza di Nozick così come nel caso di To The Moon che secondo me non è giusto paragonare ma non importa noi non siamo bloccati in una sola realtà o meglio una volta che siamo dentro la simulazione noi non sappiamo di essere ok questo avrei voluto sapere fino al principio ma scegliamo di entrarvi quando ne siamo ancora fuori da questa prospettiva esterna alla macchina noi abbiamo e come una distinzione tra due realtà abbiamo cioè nel momento in cui decidiamo di entrare o meno nella macchina la concezione di una realtà diversa da quella presente ora se noi prima di entrare nella macchina siamo dei cretini abbiamo tanti problemi anche quello di credere che ci siano due realtà non è che prima di entrare nella macchina noi crediamo che ci siano due realtà se siamo consapevoli siamo semplicemente consapevoli del fatto che accettiamo mettiamo la nostra firma su una forma di ipnosi illusione o quello che volete voi una inestrica bella Henry grazie mille inestricabile sospensione dell'incredulità come l'ho chiamata io ma che non è giusto chiamarla così perché la sospensione dell'incredulità è qualcosa di volontario in altre parole accettiamo di essere in qualche modo sedati e ingannati ok ma non sono due realtà ok i regats di to the moon non hanno creato una realtà la fantasia non è realtà ok va bene devo stare calmo la prospettiva la prospettiva di Chalmers secondo cui potremmo essere tuttora in una simulazione non saperlo ma usare comunque parole come reale e valore io voglio morire ma anche ammesso e non concesso che il dio per questo lo dovremmo chiamare il dio di Chalmers che Chalmers non si però disturba di accollarsi l'onere della prova anche ammettendo il dio di Chalmers il dio maligno di Chalmers scusami le parole reale e valore che cosa hanno di intrinseco per cui non possono essere usate al di fuori del mondo reale e reale non di quello reale e virtuale perché nei romanzi non si usano le parole reale e valore ma che cazzo di importanza stiamo dando le parole sono strumenti di comunicazione che cazzo di esperimento un crucifix che cosa cazzo vuol dire è dunque indebolita la prospettiva secondo cui è è dunque indebolita dal fatto che perché fuori dalla simulazione si tratta pur sempre di una costruzione illusoria oh oh madre oh madre io io non ho capito dunque ma manca completamente la conseguenza logica da questa prospettiva esterna la macchina prima di farci mettere il casco noi sappiamo che ci facciamo mettere il casco e saremo creduli di quello che ci verrà mostrato siccome è così la prospettiva di Chalmers secondo cui potremmo essere tuttora una simulazione e non saperlo ma usare comunque parole come reale e valore cazzo c'entra le parole è comunque indebolita dal fatto che perché fuori dalla simulazione si tratta pur sempre di una costruzione illusoria ma io non ho ma di cosa qual è il il seguo qual è la consecuzio di questo ragionamento andiamo avanti ciò che vale ma anche ammettendo la possibilità che la nostra realtà attuale sia una simulazione è a questa realtà che noi attribuiamo valore e non a un'altra per quanto simili ma che confusione bella datolo grazie mille che cazzo di confusione ma come se noi attribuissimo nella nostra vita reale che non sappiamo se lo sia è come se noi attribuissimo valore soltanto agli oggetti fisici solidi ma noi tutto il tempo attribuiamo valore a cose che sono soltanto immaginarie non c'è non c'è non c'è nessun bisogno di mettere nessun cervello della vasca di tirare fuori nessun to the moon per niente di quello che è scritto fin qua bella Leo Piero grazie del Prime la domanda di nosi che infatti non è una domanda epistemologica possiamo sapere di non essere già in una simulazione né una domanda metafisica il mondo interno alla macchina non è un mondo reale ma una domanda sul valore e quindi il can per laia cosa l'abbiamo menato a fare gli stati mentali sono tutto ciò che conta vado avanti in questo senso la domanda posta e qui Matrix ok in questo senso la domanda posta dall'esperimento mentale di Nozick è una domanda su quello che Moore chiama valore intrinseco ovvero la bontà di una cosa in sé e non in quanto mezzo per qualcos'altro ah sì perché gli stati mentali non sono il mezzo per qualcos'altro per verificare se qualcosa costituisca un valore intrinseco bisogna considerare quella cosa in isolamento rispetto a tutto il resto povero Pearse povero Pearse potete farlo per piacere potreste per piacere considerare una cosa in isolamento rispetto a tutto il resto e se ci riuscite mi dite come avete fatto ma la semiosi illimitata ma porco no 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 Sizer no devi isolare bene non hai isolato bene isola bene no 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 però quell'isolamento è già c'è un segno che non rimanda a un altro segno voglio bestemmiare l'ho già fatto non abbastanza l'esperimento di Nozick serve allora a mostrare che il piacere cioè l'unico oh porco l'unico ma non era la felicità vabbè diciamo il piacere ma la felicità piacere poi come se nulla fosse cioè l'unica cosa prodotta dalla macchina dell'esperienza non ha valore intrinseco in quanto una vita che contenesse solo quella sensazione di piacere non sarebbe ricca di valore non la preferiremmo un'altra la domanda non è se entrare nella macchina sia preferibile rispetto ad alternative estremamente terribili per esempio una vita sotto tortura ma se entrare nella macchina costituisca la migliore vita possibile o una delle migliori in quanto tutto ciò che conta nella vita è solo come ci si sente dall'interno quanti cazzo di slittamenti ma ma perché perché su una base di cosa Nozick sostiene questa cosa cosa mostra prima di tutto non è un esperimento tra l'altro che cazzo mostra cosa cazzo ha mostrato ha mostrato che l'unico che in che modo quando questa cosa è impossibile ma di cosa stiamo parlando ma poi una vita che contenesse solo quella sensazione di piacere non è tu de muna tra l'altro Andiamo avanti Nozick non sta dicendo che non dovremo mai entrare nella macchina nemmeno temporaneamente al contrario essa potrebbe essere molto utile in molti casi tuttavia raramente giudicheremmo una vita passata dentro quella macchina con tutto il piacere che ne consegue come preferibile a una vita vissuta fuori da essa Chi? Perché? Che cosa? Cioè questa macchina è la macchina di tutto quello che avresti voluto sapere sul sesso non avete mai usato chiedere quella che ti dà le 48 ore di orgasmo di cosa stiamo parlando? o è la ricostruzione di tutta una vita o è Matrix non ho capito giudicheremmo ma non sapremmo cosa giudicheremmo senza sapere e poi perché questo dice che è così allora è così ma che cazzo ma poi qual è l'innesso con tutte le menate di Chalmers ma allora cosa è che rende una vita buona? wow sono veramente curioso della risposta cos'è che rende una vita una buona vita o una vita felice? qualunque sia la risposta io non riesco a farla discendere da quello che ho letto fino adesso sono veramente curioso la domanda è ancora una domanda sul valore cos'è importante? ok ok molte risposte sono state date nella storia ok e nessuna di esse è stata finora accettata come definitiva ok una delle risposte più popolari ma siamo ancora collegati a quello che si stava dicendo prima se escludiamo visioni religiosi e idealistiche religiose e idealistiche è che ciò che conta è il piacere una vita con più piacere è semplicemente più felice di una con meno piacere definire definire cosa intendiamo per felice cosa intendiamo per piacere tuttavia Nozi con il suo esperimento mentale e Kangao con il senso di amarezza lasciato dal suo gioco per altre ragioni ci mostrano che forse la storia non è così semplice c'è qualcos'altro che dà valore alla vita oltre al piacere soggettivamente percepito non vogliamo semplicemente io però ragazzi la filosofia non vogliamo posso invitare a non usare il plurale io non ho neanche capito di cosa si sta parlando non so neanche se voglio o non voglio quello di cui si sta parlando perché non ho capito non vogliamo semplicemente la felicità intesa come stato mentale ma vogliamo una vita completa con le sue esperienze le sue relazioni la sua comprensione del mondo il suo contatto con la realtà il realismo e che cosa è reale che cosa non è reale in questo articolo cambiano talmente tanto di significato non vogliamo semplicemente la felicità intesa come stato mentale ma vogliamo una vita completa con le sue esperienze le sue relazioni la sua comprensione del mondo il suo contatto con la realtà mi dispiace dirlo ma tutte queste cose sono mediate dal cervello o no? o c'è altro che il cervello? e quindi adesso chi se ne frega di sto gioco mentale ma nell'ipotesi diciamo di un matrix tutte queste cose le puoi simulare se hai modo di mettere mano alle percezioni del cervello in modo totalmente creativo cioè tutta la gag è che tu non puoi sapere se la felicità intesa come stato siano o meno simulate oppure no ma la simulazione non era la felicità come uno stato mentale cioè è terribile sta cosa noi non vogliamo la felicità intesa come stato mentale ma l'esperimento del cazzo per me me ne frega niente ma comunque il discorso del cervello è una vasca non riduce la felicità a uno stato mentale comprende la vita completa le esperienze le relazioni la comprensione del mondo il contatto con la realtà semplicemente è una realtà che viene simulata che viene data da questo ipotetico accrocchio fantascientifico che mette mano al cervello non so se poi la macchina di Nozick fosse semplicemente una cosa che ti fa godere fisicamente così e basta ma sì per carità io penso che tu abbia detto giusto credo che alla fine la morale sia quella vai nel mondo reale non stare in casa non fare un cazzo ma Dio il mio io boh boh ma mi sono perso non siamo semplicemente dei secchi vuoti che devono essere riempiti di felicità o di piacere ma chi è che lo sostiene ma che tesi ma chi dei secchi vuoti ciò che importa è soprattutto la nostra vita il nostro sé il mondo in cui esso si trasforma è attività cerebrale Dio madonna ma il nostro sé si trasforma anche quando guardiamo un film ma PD non a caso in tu demone solo ripercorrendo i cambiamenti che avvengono nella vita di Johnny e quindi gli eventi che hanno reso quello che è che possiamo migliorare i suoi ricordi che ci entra Dio ma fammi essere un secchio tuttavia nel caso di tu demone il processo di ricreazione del sé è portato avanti con un'idea generale di come questo debba essere alla fine noi sappiamo che per rendere felice Johnny dobbiamo fargli credere di essere stato sulla luna tuttavia non è così che agiamo realmente nella nostra vita non abbiamo quasi mai un'idea chiara e distinta di cosa vogliamo davvero e in ogni caso non c'è nessuno che abbia il compito di realizzare il nostro sogno parte del senso di amarezza che proviamo alla fine del gioco deriva proprio dal fatto che nonostante Johnny muoia felice nella convinzione di aver effettivamente realizzato il suo desiderio anche ammettendo che la sua realtà soggettiva sia l'unica che conta per lui noi sappiamo che in realtà Johnny non ha realmente realizzato il suo desiderio ma non tanto perché esso sia stato esaudito solamente nella sua testa quanto perché non è stato lui a realizzarlo siamo stati noi nel rendere più piacevole la morte di Johnny noi gli abbiamo sottratto autonomia ma si può dire così però il fatto è che lui ce lo chiede è come dire io opere eutanasia verso una persona che non può uccidersi e gli ho tolto l'autonomia cioè Johnny non lo sa e soprattutto è lui che ha deliberatamente chiesto che fosse fatto questo intervento se non ricordo male e quindi la malinconia viene innanzitutto da tutte le cose che scopri nel corso della vita di Johnny e ci sono tantissimi episodi tristissimi nel fatto che lui muoia e certamente nel discorso che ci sia un'illusione ma che è l'illusione di tutti cioè Johnny perché è bello to the moon perché è una storia dal valore universale naturalmente e noi ci tendiamo molto a immedesimare con quel personaggio quanto sarebbe bello poter iscrivere la propria vita fosse andata tutta perfetta ricordarsela soltanto così è una cosa che ci dà una certa amarezza perché non è possibile to the moon nella messa in scena di to the moon è possibile ma to the moon sa perfettamente che non è possibile esattamente la malinconia la proviamo noi non lui non mi interessa entrare in una questione assai poco rilevanti del libero arbitrio che ci crediamo o meno compiamo scelto ogni giorno qui il problema è un problema di autonomia agendo come gli angeli custodi di Johnny noi gli sottraiamo la libertà di decidere da sé che cosa è importante e cosa no decidiamo noi cosa è importante per lui su cosa concentrarsi e a cosa dare valore a me dispiace ma noi siamo al soldo di Johnny se non ricordo male a Johnny frega zero della nostra amarezza cioè è paternalistica paradossalmente paternalistica la nostra amarezza perché noi diciamo a Johnny guarda quello che tu hai voluto e che noi abbiamo realizzato non va bene e non dovevi farlo ci ha pagato lui esattamente qui è proprio non ricordarsi com'è il gioco noi non gli abbiamo sottratto la libertà noi abbiamo eseguito le sue ultime volontà che lui da solo non era in grado di eseguire ma ripeto al discorso dell'eutanasia la persona che non è in grado che soffre che decide che la sua sofferenza è intollerabile e che non è in grado di darsi la morte da sola chiede aiuto e noi le diamo un aiuto facendo qualcosa che lei non fa ma questo non è paternalistico noi non siamo paternalisti nei confronti di Johnny paternalistico è giudicare la scelta di Johnny come sbagliata e questo è paternalistico la possibilità di scegliere su cosa concentrare la nostra attenzione è una componente importante della nostra autonomia ok in generale noi abbiamo bisogno di poter cambiare il focus della nostra attenzione avanti e indietro dal generale al particolare da ciò che va a ciò che non va dal breve al lungo termine certo ciò che siamo dipende in larga parte da ciò a cui abbiamo dato e diamo importanza per questo è importante per quanto possibile avere il controllo della nostra attenzione e focalizzarla su ciò che realmente riteniamo importante cioè in tutto questo articolo c'è il dualismo non siamo noi e il nostro cervello noi e il nostro cervello è la stessa cosa poi ovviamente il solito discorso il linguaggio crea un soggetto ma per questo dicevo prima che metti il cervello nella vasca o metterlo nella scatola cranica sempre un cervello ciò che siamo dipende in larga parte da ciò che abbiamo dato e diamo importanza per questo è importante per quanto possibile avere il controllo della nostra attenzione e focalizzarla su ciò che realmente riteniamo importante e non facciamo non possiamo fare altro esatto sono d'accordo monkey sì non possiamo fare altro è importante per quanto possibile avere il controllo della nostra attenzione e focalizzarla su ciò che realmente riteniamo importante uno dirà ma la distrazione eccetera sono d'accordo però se abbiamo deciso e sono d'accordo quando dice facciamo che il libro arbitrio schippiamo la questione io sono d'accordo di schipparla tanto è abbastanza oziosa anche quella quindi non c'è plagio anche nella distrazione siamo padroni della nostra distrazione poi in realtà entrano tutti possono entrare questioni chimiche eccetera ma più le fai entrare più sparisce il soggetto il solito discorso che altro possiamo fare se non indirizzare la nostra attenzione su quello che ci sembra importante anche quando siamo davanti allo smartphone e scorriamo le storie di Instagram che cazzo ne so io ci sembra importante ma comunque se affidiamo a qualcun altro il genio maligno Eva Onillo la macchina dell'esperienza la decisione di cosa è importante per noi ma Dio 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 se nel cervello della vasca abbiamo deciso che era una decisione deliberata è una decisione deliberata quella di To The Moon è una decisione deliberata noi non stiamo affidando a qualcun altro poi non ho assolutamente capito la macchina dell'esperienza di Nozick come funzioni ma negli altri esempi noi non stiamo affidando a qualcun altro la decisione di cosa è importante per noi non stiamo rinunciando alla nostra unica possibilità di dare forma alla nostra vita ma tra l'altro all'ultima mezz'ora di vita il povero Johnny tu dimmi a che unica possibilità di dare forma alla sua vita stava rinunciando cioè di fatto è la carezza prima di morire quello che fanno motivo anche di malinconia quello che fanno Eva e Neil e lui chiede una certa carezza prima di morire la sua vita l'ha ben vissuta ciò che Nozick mostra con il suo esperimento mentale è che questa vita non può essere felice se l'unica cosa che contiene è la felicità come stato di piacere non ho capito come lo mostri perché qua non c'è ma cosa c'entra una vita non può semplicemente essere felice senza che al suo interno non ci sia altro di valore la felicità va a braccetto con altre cose che sono correttamente valutate positivamente senza di questo la felicità non avrebbe nemmeno inizio qua bisognava leggere Nozick perché qua non è riportato qual è il suo ragionamento e poi io immagino che lui lo faccia ma definire felicità che cosa vuol dire che cosa intendiamo perché ognuno poi è proprio una parola molto vogliamo una vita felice nel senso in cui vogliamo una vita rispetto alla quale la felicità sia una risposta appropriata vogliamo una vita che sia bella da guardare gli esperimenti mentali non dimostrano niente non c'è dubbio però è stato attento a scrivere mostra ma vogliamo una vita che sia bella da guardare ma io ma che cazzo vuol dire ciò che con Nozick e con Kangao ma guarda che Kangao non lo sostiene voglio sostenere è che la felicità non è una risposta appropriata a una vita vissuta nell'illusione la realtà ha di per sé valore cosa vuol dire una vita vissuta non nell'accettazione ma nel rifiuto della realtà una vita da Aikikomori o da Madame Bovary in cui si preferisce il mondo ideale della fantasia a quello reale della realtà è una vita che raramente considereremmo felice ma allora qualche volta sì non lo so 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 è un articolo che sta su Silicon Arcadia Bruce non lo rileggerò da capo io boh non lo so cioè c'era voglia di dire questo ma cosa c'entri con tutto quello che c'è prima non lo so e poi sulla frase dov'è questa frase è molto 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 problematica la realtà ha di per sé valore allucinante non è assolutamente vero però wow fermo restando ovviamente la condizione problematica di un Ichiko Moria che nessuno nega anche lui vive nella realtà e infatti ne pagherà poi il prezzo e i cocci sono i suoi la realtà di per sé valore è allucinante è allucinante non so neanche cosa dire che vuol dire che vuol dire che cos'è il valore senza il nostro linguaggio senza le nostre interpretazioni che significa qual è il valore di Urano e di Nettuno di cosa stiamo parlando che vuol dire la realtà di per sé valore non hai fatto bene mi chiamo Matti il valore ha di per sé valore postilla to the moon ed eutanasia finora ho tralasciato una questione non del tutto irrelevante mentre la macchina dell'esperienza di Nozick è pensata come un'alternativa alla vita reale il macchinario usato in to the moon non è che una potentissima macchina per il lavaggio del cervello che viene usata alla fine della vita del paziente dunque sebbene condivido con Nozick la non desiderabilità di una vita nella sua macchina dell'esperienza capisco però la scelta di Johnny di utilizzare il macchinario della Sigmund per alleviare i suoi ultimi istanti la felicità non è tutto ciò che conta perché una vita sia una buona vita ma magari il ricordo di una vita felice è una cosa molto importante per rendere la morte una buona morte e quindi e quindi io non so io non so io non so non so non so sono sono molto confuso sono molto confuso sono molto molto confuso non so ma infatti in tutto l'articolo Sizer si gioca sul usare il termine realtà e irrealità da un punto di vista metaforico cioè vivere nelle proprie fantasie non a contatto con il mondo reale nel senso che ne so il lavoro eccetera eccetera e quindi e ciò che è ontologicamente reale è ciò che non lo è come se fosse la stessa cosa ma poi alla fine mancava il colpo dopo il colpo alla botta c'è il colpo al cerco però in realtà vabbè allora scusami fino adesso vediamo non esistono più le stroncature oppure i social l'irrelevanza dei libri e il futuro del mercato degli intellettuali qua però bisogna zoomare perché non vedo una fava sappiate che sto sudando l'impossibile è giusto che lo sappiate beh non è lungo bella Janjox grazie mille del Prime chissà se riesco però perché io questo l'avevo iniziato a leggere qua c'è il vostro idolo questo l'avevo iniziato però se il post mi toglie sta cosa ok questo bella ma bruciati è veramente norma veramente anche io andrei tra l'altro anche anche io il nostro occhio è allenato bellagino pigiamino io non l'ho letto l'ho annusato l'ho annusato l'ho un po' così e ho avuto la sensazione ho subodorato il capolavoro però non lo so perché non vorrei risultare siccome il mondo si divide in chi compra i libri di Francesco Costa e Hitler non so se è il caso che io legga questa cosa ma io devo smetterla di essere uno stronzo ma è impossibile Francesco Costa non importa se non so se non lo so non lo so vabbè facciamolo dai lo faccio non importa se eravate d'accordo con Michela Murgia andiamo vediamo mi butto guardavo se questo virgolettato è dopo nell'articolo allora lo schippo penso sia dopo nell'articolo tra le altre cose mi domandavo una cosa quando leggiamo il post con tutti i suoi stilemi i suoi segnali di stile si è fatto piuttosto notare abbastanza rilevanti tutti questi modi di dire un po' così soffri non li usa non sono suoi il seguito lo lascio a voi da anni mi pago le bollette e il mutuo scrivendo anche con qualche gratificazione eppure ho sempre trovato difficile ai limiti dell'impossibile scrivere di un personaggio pubblico dopo la sua morte e per me ha già un sapore di Michele Serra non parlo qui della scrittura di un cosiddetto coccodrillo cioè uno di quegli articoli con le principali informazioni biografiche sulla persona morta che spesso vengono scritti quando la suddetta persona morta è ancora viva per quanto anche quella sia un'arte sottovalutata parlo di quegli articoli che ambiscono a individuare e raccontare il significato di ciò che la persona morta era stata e aveva fatto scritto, detto, ottenuto e rappresentato mentre era in vita del senso collettivo e generale che ha avuto il suo passaggio sul mondo ora io purtroppo mi rendo conto di essere il cagacazzismo personificato non parlo dei coccodrilli ma parlo ok? quindi non cosa impedisce a un coccodrillo di essere questo secondo articolo io questa seconda parte non è in contrasto non è avversativa rispetto a questa ma porco di cosa ci ha lasciato come si dice in questi casi di cosa rimarrà di quanto ci abbia cambiati chi può sentirsi all'altezza di un compito del genere di sintetizzare il senso di una vita chiunque abbia un briciolo di consapevolezza di sé dovrebbe rinunciare a un esercizio così impudente e presuntuoso prima ancora di cominciare come ci permettiamo? dall'altra parte non trovo convincente nemmeno l'idea che la cosa migliore sia astenersi da questo genere di esercizi reagire alla mo ragazzi era una giornata di sole nei campi il cane si era fatto si era fatto un bel giro ma aveva veramente aveva veramente scorrazzato aveva veramente scorrazzato ma si era fatto un giro ma quanto sapete i cani corrono sono felici si diverso è una cosa bellissima gli lanci le cose torna beve sapete che mandano l'acqua è stanco il cane è stanco si torna però lo piglia e dice andiamo il cane non so se arriva alla fine dall'altra parte non trovo convincente nemmeno l'idea che la cosa migliore sia astenersi da questo genere di esercizi reagire alla morte di un personaggio pubblico con un sacrale silenzio collettivo limitandosi a esprimere la propria tristezza ma anche meno nel caso di persone che siano state in grado di toccare nel bene e nel male come si dice io voglio impazzire sto impazzendo non penso né una cosa né un'altra né questo né questo né il bene né il male un numero di vite superiore a quello di chi le conosceva direttamente che abbiano avuto un qualche ruolo impatto nella società trovare capire raccontare quell'ascito è necessario per trovare capire raccontare noi stessi non se ne esce più la vita appena conclusa è stata grande più l'esercizio è impossibile più l'esercizio è impossibile più è opportuno voglio rileggere voglio rileggere voglio rileggere voglio rileggere è piaciuto dall'altra parte non trovo convincente nemmeno l'idea che la cosa migliore sia astenersi da questo genere di esercizi reagire alla morte di un personaggio pubblico con un sacrale silenzio collettivo o limitandosi a esprimere la propria tristezza men che meno nel caso di persone che siano state in grado di toccare nel bene e nel male come si dice un numero di vite ha persino preso le distanze dalla presa di distanza perché il come si dice è una presa di distanza dal bene e nel male che è una presa di distanza dal giudicare un numero di vite superiore a quello di chi le conosceva direttamente che abbiano avuto un qualche ruolo e impatto nella società trovare capire raccontare quell'ascito è necessario per trovare capire raccontare se stessi noi stessi un bel in my humble opinion non se ne esce un bel io non ne esco faceva così schifo io non riesco a uscirne era meglio più la vita appena conclusa è stata grande più l'esercizio è impossibile più l'esercizio è impossibile baby più è opportuno credo che sia anche per queste ragioni e non soltanto per vanità che in questi casi si finisce per scrivere soprattutto di se stessi forse non posso dire cosa abbia significato quella persona per tutti ma posso dire insindacabilmente cosa abbia significato madonna la soddisfazione di poter finalmente usare questo avverbio cosa abbia significato per me solo che è difficile individuare e poi rispettare il confine che separa un racconto personale dal suo valore generale che poi ce l'avrà un valore generale non mi starò soltanto cimentando nello sport nazionale del racconto dei fatti miei non starò esibendo la mia presunta peraltro vicinanza alla persona morta c'è il rischio di produrre la versione testuale della foto con il morto il rischio del fotobombing del mettersi davanti al soggetto della foto finendo per oscurarlo c'è anche il rischio di dare l'impressione di aver soltanto voluto timbrare il cartellino oltre che quello di farlo effettivamente nessuno di questi fenomeni è nuovo ma tutti sono stati portati all'estremo dai social media l'eterno presente in cui si incontrano e scontrano milioni di inconsapevoli dipendenze dallo scroll compulsivo dalla polemica dal pettegolezzo dai like il contesto in cui qualsiasi cosa diventa content e qualsiasi content diventa nel peggiore dei casi una scarica di dopamina e nel migliore soldi soprattutto se tratta la notizia del momento il contesto di infinite performance che produce un insidioso surrogato della confidenza tra seguiti e seguitori in cui le persone si sentono in dovere di scusarsi se non hanno postato qualcosa per una settimana mentre altre in giorni come questi scrivono ai personaggi pubblici per chiedergli come mai non abbiano ancora dedicato un posto un reel almeno una story santo cielo alla persona morta e quindi alle brutte tanto vale timbrare il cartellino limitandosi all'indispensabile per pigrizia perché non si ha nulla da dire o per tentare di sottrarsi alla trappola di qui sopra condividere un post di qualcun altro quindi senza neanche scrivere qualcosa di proprio e aggiungere una banalità o un cuore o una faccina che piange così che dalla storia successiva possono ricominciare inesorabili le foto delle vacanze alla luce del fallimento evidente delle istituzioni che più di ogni altre dovrebbero teoricamente sviluppare il cosiddetto dibattito pubblico fuori dalle cosiddette elite giornali, riviste sto parlando di noi che elite che elite mamma mia se non fossi sudato che mi scivola la mano così ci stava il face palm che imbarazzo questa cosa che imbarazzo quante righe di niente mi pago le bollette e il mutuo scrivendo qua siamo a scuola olden bella Heisenberg grazie del prime wow mamma mia che impressione questo passaggio mi ha fatto fisicamente impressione il vostro idolo il vostro idolo alla luce del fallimento evidente delle istituzioni che più di ogni altre dovrebbero teoricamente sviluppare il cosiddetto dibattito pubblico fuori dalle cosiddette elite giornali, riviste sto parlando di noi il suddetto dibattito si è trasferito principalmente in luoghi social media che non sono stati costruiti per ospitarlo e che anzi cercano in ogni modo di peggiorarlo e scoraggiarlo con gli incentivi sanciti dai loro algoritmi questo tragico trasloco insieme al lavoro poverissimo delle istituzioni che avrebbero il compito di insegnare alla popolazione intera a discutere e quindi a partecipare al dibattito pubblico con argomenti logici e conoscenza scuole superiori televisione di stato sto parlando di voi ha prodotto un'altra triste io voglio sapere la persona che legge questo inciso e pensa come scrive bene perché c'è è quella che legge solo i romanzi e solo i romanzi contemporanei mamma mia che masturbazione ha prodotto un'altra triste conseguenza oltre all'instupidimento generale di cui siamo insieme responsabili e testimoni ognuno per la sua parte la perdita della capacità di distinguere un influencer da un politico da un intellettuale lo sono provato si è scritto molto in questi anni della combinazione tossica eppure inevitabile dei meccanismi del consenso politico con quelli sai Stefano che potresti avere ragione tu hai ragione Stefano hai ragione non si è dato dell'elite loro hanno il compito di parlare lì fuori dell'elite sorry sorry bravo Stefano bravo grazie hai fatto bene a dirlo si è scritto molto in questi anni della combinazione tossica eppure ma non si stava parlando di lei ci arriviamo si è scritto molto no ma poi Robbo io voglio dire una cosa Rob il sapere scrivere posso dire che un contenuto vuoto scritto bene è scritto male siccome la distinzione fra forma e contenuto è d'uso ma qui davvero la semiotica la forma impregnata del contenuto e il contenuto della forma non esiste che qualcosa di contenutisticamente scialbo sciapo vuoto inutile banale irrilevante possa essere considerato scritto bene non esiste lo scrivere bene indipendente da che cosa si scrive questa idea che c'è un modo di rifinire la frase che è lo scrivere bene sicuramente si può scrivere male qualcosa di pregno contenutisticamente questo ferirà il contenuto allo stesso modo ma scrivere bene è anche e soprattutto ragionare bene una buona scrittura è la limpidezza del ragionamento non significa che sia asciutta a me proprio c'è questa idea veramente da scuola olden per cui non serve sapere un cazzo ma si può scrivere bene cioè tu puoi avere la testa completamente vuota ma sapere scrivere bene sì ma che cazzo scrivi e quello che scrivi in che modo è bello perché fai questa rima tra due parentesi che fa venire il latte alle ginocchia che è la cosa più cringe ma io boh poteva non essere cringe poteva esserci scritto qualcosa qui che non fossero dei luoghi comuni allucinanti il cosa e il come sapere scrivere insegniamo a sapere insegniamo a scrivere andiamo avanti si è scritto molto in questi anni della combinazione tossica è pure inevitabile dei meccanismi del consenso politico con quelli della celebrità in un mondo in un mondo e nell'altro dal cibo orrendo fotografato da Matteo Salvini alle storie di Chiara Ferragni sulla criminalità a Milano dalle bimbe di Giuseppe Conte agli influencer che si sono costruiti un pubblico e un reddito alternando i contenuti ad sponsorizzati a quelli che fomentano la sassaiola indignata del giorno attorno a questo o a quella causa ma quando i meccanismi del consenso e della cele sta parlando di? ma quando i meccanismi del consenso e della celebrità si applicano i cosiddetti intellettuali dovremmo evidentemente trovare una parola migliore rischiamo di pensare che il loro valore il valore dei cosiddetti intellettuali non possa che dipendere da quante volte i loro argomenti abbiano dato ragione ai nostri da quanto abbiano provocato in noi la sola semplice reazione del dire giusto al cui reagire ovviamente con un like e una condivisione da quanti amici e nemici abbiamo avuto in comune o da quanto la loro opera chiedo scusa il loro content ci abbia intrattenuti diventiamo incapaci di riconoscerli va bene ok ma urgerebbe definizione di intellettuale urgerebbe definizione io spero che arrivi perché cosa definiamo intellettuale in che modo noi decidiamo che aspettate dove era un influencer che si è costruito un pubblico e un reddito alternando i contenuti adva quelli che fomentano la sassaiola non è un intellettuale e per quale ragione la murgia invece è un intellettuale cioè andrebbe bisognerebbe capire che cosa fanno gli intellettuali bella plumbus che cosa fanno gli intellettuali che cosa li distingue fanno un lavoro intellettuale il content creator fa un lavoro intellettuale e quindi è un intellettuale che significa? ah sono quelli che dicono la loro in tv sui giornali quindi bisogna appartenere ai vecchi media io le ricarico sempre le mie live stanno tutte su Cantina Uesa e quindi arriviamo a Michela Murgia alla sua vita alla sua morte e al nostro modo di raccontarla il valore riconosciuto alle cose che ha detto fatto ottenuto rappresentato Michela Murgia non dovrebbe dipendere dal numero di volte che siamo trovati d'accordo con lei aver trovato puntualmente convincenti tutte le sue idee non dovrebbe essere una condizione necessaria per apprezzarne il contributo al dibattito pubblico a piangerne una morte così prematura a dispiacersi di tutte le sue cose che avremmo ancora potuto leggere e ascoltare negli anni a venire e le quali invece dovremmo rinunciare e questo perché Michela Murgia prima ancora che una scrittrice un attivista un personaggio televisivo o social è stata un intellettuale arriva la definizione quindi ora la leggeremo va bene ok insomma il suo valore non dipende da fatto di essere o meno d'accordo con lei che cos'è quindi anzi chi è un intellettuale è una domanda paralizzante a cui hanno risposto nel corso dei secoli persone immensamente più attrezzate del sottoscritto ma azzardo una sintesi qualcuno la cui attività culturale produce una qualche forma di cambiamento prima ancora che appagamento approvazione polemica o intrattenimento che comunque non mancheranno e che produce quel cambiamento attraverso talenti che vanno oltre l'abilità tecnica nella loro arte o la capacità di combattere una qualche battaglia bensì attraverso il dono del vedere quello che non vediamo e metterselo davanti rendendolo improvvisamente chiaro del dirci qualcosa che non ci piacerà ma a cui comunque ci ritroveremo a pensare per settimane o mesi o anni se saremo disposti ad ascoltarla del saper argomentare un'idea con originalità efficacia e rigore inchiodando le incoerenze altrui e provocando pensieri prima ancora che emozioni ok il discorso del cambiamento è molto molto debole tantissime cose generano un cambiamento anche di questo tipo quindi sapere argomentare un intellettuale è una persona che sa argomentare non so cosa significhi vedere le cose che altri non vedono fare osservazioni che altri non sono venute in mente ok capacità argomentativa è essere un intellettuale ok tanti tanti sono stati considerati intellettuali senza avere nessuna ma va bene se il valore di un intellettuale dovesse dipendere dalla coincidenza delle sue idee e va bene delle sue idee con le nostre e quindi celebrarlo in assenza di quella coincidenza ma tutto questo è un mani avanti per dire non sono sempre stato d'accordo con la burgia ma non sono un fascista e questo sarebbe il discordo perché a certo punto e quindi celebrarlo in assenza di quella coincidenza fosse sbagliato oppure necessariamente opportunista ipocrite il nostro intellettuale di riferimento sarebbe quel vecchio amico con cui siamo sempre d'accordo quando parliamo al bar davanti a uno spritz temo che per qualcuno sia effettivamente così e infatti a proposito della confusione di cui sopra siamo pieni di politici e influencer e sedicenti intellettuali che si sforzano di apparire uno di noi quando tragicamente non lo sono davvero Michela Murgia è stata un intellettuale perché era brava ad argomentare io non ho mai letto i suoi libri ho solo visto delle cose online non sono sicuro che avrei detto che era proprio ma però è stato un intellettuale nel senso più puro del termine una dei pochi peraltro che avesse avuto e prodotto il nostro paese negli ultimi vent'anni diceva cose che nessuno aveva detto prima e altre che avevamo già sentito ma che lei sapeva dire meglio baricco sarebbe fiero affrontava questioni note da punti di vista laterali era spiritosa anche quando parlava delle cose più serie e profonda quando parlava delle più leggere sapeva andare contro pelo rivolgendosi agli amici come ai nemici e entrambe le categorie di persone rendeva prima o poi inevitabile farci i conti spesso ottenendo di far emergere la loro la nostra inadeguatezza e magari così facendo insegnando ogni tanto qualcosa magari una cosa diversa da quella che voleva dirci certo si insegna anche esibendo i propri limiti a chi fosse disposto a non arrendersi alla prima reazione o lasciandoci comunque un po' diversi da come eravamo prima e in questo caso la definizione di intellettuale è molto soggettiva perché la rilevanza di quello che una persona dice è soggettiva cioè per te può essere rilevante per me può non essere e viceversa quindi io preferisco l'intellettuale colui che fa un lavoro intellettuale cioè usando l'intelletto e non non le mani ok però ed è riuscito a fare tutto questo a fronte della debolezza delle vecchie istituzioni culturali e della vacuità di quelle nuove a questo servono gli intellettuali aver scritto questa frase mi ha appena aggiunto vent'anni di età va bene ho il sospetto ma soprattutto notare che sembra che sia appena iniziato definito ho il sospetto ma soprattutto la speranza che la straordinaria partecipazione di questi giorni si debba innanzitutto a questo prima ancora che alle circostanze della sua morte o alle volte in cui ci siamo eventualmente trovati d'accordo con le cose che diceva che forse non siamo più in grado di riconoscere un intellettuale ma quando ce ne troviamo una davanti ce ne accorgiamo ancora per quanto inconsapevolmente e che questo sto sognando lo so ci porti da qui in poi a sottrarre gli intellettuali al gioco delle squadre e delle fazioni delle shitstorm e del da che parte stai e cercare in loro non qualcuno che la pensi come noi ma qualcuno che faccia pensare noi a desiderare strumenti più che idoli meno risposte e più domande meno banalità wow e più rigore meno conferme e più coraggio non lo so era un intellettuale perché era rilevante nel discorso pubblico praticamente ha avuto un impatto nel discorso pubblico questo non si capisce come escludere gli influencer ha fatto parlare di sé grande filzer il cane è stremato sotto l'albero per me non mi piace la parola intellettuale dico la verità per me un intellettuale è una persona che lavora con l'intelletto fine se mettiamo se basiamo la definizione di intellettuale sulla rilevanza che ha allora sei tanto più intellettuale quanto più successo hai il che non ha senso e la rilevanza è molto soggettiva perché ad esempio per me la murgia non è stata rilevante però ognuno ha il suo quindi ognuno fa quello che vuole quindi è una parola che userei il meno possibile perché è semplicemente l'Italia ognuno cerca di circondare le persone che gli stanno che non considera Hitler dalla sua parte o più o meno di questa aura magica per cui quello è un intellettuale quello lo dobbiamo salvare dalla merda perché lui è un intellettuale o lei è un intellettuale vabbè ok ma l'hai deciso tu ma allora io decido che quell'altro è un intellettuale quindi sì intelletto diciamo per non dire lavori manuali di solito si usava questa definizione ma è una definizione del cazzo sono intellettuale oltre che biscienziato io mi astengo perché non l'ho mai veramente seguita quindi teologa cattolica femminista madre lesbica ok no ma tutti usano l'intelletto è impossibile muovere un dito senza usare l'intelletto però un lavoro solo intellettuale è un lavoro intellettuale c'è un lavoro in cui vabbè che anche lo scrittore usa la mano quindi sì è una definizione del cazzo bella musotros consiglio sempre i saggi al limite sì puoi dire la rilevanza storica diciamo che nell'attualità è difficile valutare la rilevanza storica quindi in quel senso nessuno sarebbe intellettuale adesso se è intellettuale fra trent'anni diciamo però sai sarò capito quello che intendi ma in questo caso se tu sei un analfabeto sei un bambino intellettuale è il tuo professore delle elementari capito cioè il fatto che una persona mi insegni qualcosa che non sapevo prima non significa che il mondo quella cosa non la sapesse e non significa che questa persona abbia dato un contributo intellettuale di valore ok il fatto che una persona mi sia risultata rilevante che ci abbia pensato per settimane dopo che l'ho sentita non significa che quello che questa persona ha detto sia oggettivamente rilevante oggettivamente da pensarci generi in modo automatico il pensarci settimane dopo averla sentita e così via quindi intellettuale è vogliamo strumenti più che idoli ma è quasi un idolo nel senso che è una figura che io metto su un piedi salo al di sopra delle altre sulla base dell'impatto che ha avuto su di me soggettivamente ma chi l'ha detto cioè chi te lo dice che per te è intellettuale lo è per qualcun altro e questo articolo questo non lo spiega non lo dice ma Eco c'è anche scritto un articolo ma io credo che lui si basasse sulla definizione che dava Bobbio no 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 Bobbio diceva quale doveva essere il mestiere dell'intellettuale secondo Bobbio Eco era d'accordo l'intellettuale doveva essere impegnato se non ricordo ma adesso passati cent'anni però mi sembra che l'idea di Bobbio che Eco riprendeva mi sembra fosse che l'intellettuale è il grillo parlante cioè non è di parte per cui non è non è un appartenente ma è il cagacazzo argomentativo che ci può anche stare ci può anche sapere una definizione come un'altra può anche andarmi bene ma sinceramente non è una parola un pensatore critico esattamente però in questo caso l'obiezione sarebbe ma è pensatore critico vale ancora intellettuale se non lo ascolta nessuno lo devono ascoltare in tanti e poi perché usare questa categoria per me è una categoria abbastanza inutile molto elitaria oggi oggi quasi solo elitaria secondo me comunque vannacci è un intellettuale esatto in realtà sì in realtà sì è uno che argomenta bene o male chi lo sa che sicuramente avrà cambiato la vita di tante persone e che ha impatto sul dibattito pubblico vannacci potrebbe essere la versione di destra della murgia in questo senso salitore ma contenuto può essere innanzitutto la logica cioè il fatto che le cose quando si dice quindi ci sia un quindi e poi il contenuto può essere che sia di un qualche rilievo ma anche lì è molto soggettivo in ambito umanistico è soggettivo impossibile non esistono intellettuali di destra ma se non vi ricordo che se non sei un compagno sei Hitler ve lo ricordo sempre ma vedete sono quelle cose che no falco bianco non ce l'ho qui adesso possibile Leo possibile ma sai quello lì è sempre un criterio storico alla fine in ambito umanistico dopo tanti anni diciamo quella persona ma la rilevanza di uno studioso di un filosofo che cazzo la rilevanza di queste figure è spesso la misura del successo che hanno avuto del successo che è un successo non economico ma un successo culturale cioè quanto hanno influenzato gli altri per cui ma se non ero era Barilli in ambito estetico che usava la metafora dell'albero per cui c'è il tronco che può essere cazzo Shakespeare e sempre che ha influenzato tutti faccio per dire me lo invento e poi sempre meno importanti gli altri comunque sì 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 e vengono spesso esclusi gli scienziati il che non non ha senso ma capite che siamo nel mondo di fumo degli umanisti che ci tengono a queste cose sinceramente non lo so la trovo una questione abbastanza oziosa cioè è chiaro che noi possiamo purtroppo è come dire che cos'è arte cioè intellettuale è ciò che definiamo intellettuale se siamo d'accordo siamo d'accordo se no no l'influencer è un'evoluzione degli intellettuali il fatto che dobbiamo definire influencer cioè influencer è il venditore cioè se l'influencer è il testimonial cioè è la persona online che fa sponsorizzazioni boh caso per caso ma no se influencer è la persona che influenza gli altri attraverso un megafono gli influencer non nascono con internet cioè Platone era un influencer quindi boh anche lì Semino Show grazie mille anche lì dobbiamo decidere che cos'è un influencer quando è che sei influencer deve avere un account su internet beh ma questo non ti squalifica certo dall'essere un intellettuale fermo restando che cos'è un intellettuale ha un impatto sul dibattito pubblico dice qualcosa che nessuno ha mai detto prima che è molto complicato boh non lo so stiamo stiamo sempre su queste cose abbastanza fumose non mi piace questa cosa questo è un intellettuale perché le cose che ha detto erano rilevanti perché la rilevanza viene data dalla risonanza e quindi la stai in realtà trasformando in un influencer è inutile che fai finta di avere un criterio per distinguere la rilevanza dalla risonanza quando in epoca internetiana sono la stessa cosa certo anche lui dice che questo non è positivo però che altro c'è il tuo soggettivo dire che questo è rilevante e non soltanto risonante ma è soggettivo per altri non sarà risonante tu puoi dire è stata una mia intellettuale questo secondo me sarebbe stato più onesto dire lui poteva dire è stata una mia intellettuale è stata una mia figura intellettuale di riferimento e ci sta ci sta ma non lo generalizzerei perché non c'è un vero criterio generale l'intellettuale per te sono le figure che sono state di riferimento nella tua percorso culturale una cosa del genere e l'articolo sarebbe durato sei ring un articolo che poteva durarne due abbastanza risla abbastanza il tuo nick ma esatto esattamente 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 perché Berlusconi non è un intellettuale o ne ha dette di cose che non erano mai state dette prima alla fine alla fine è facile inquadrarli storicamente sono quelli che sono ancora studiati ancora citati può essere banalmente un criterio di citazione ma certo il classismo è evidentissimo a mio avviso e poi non mi piace quest'articolo perché non dice veramente niente su quello che diceva la Murgia ma veramente niente e se diciamo così se la cava o se ne lava le mani della grande non voglio dire contraddittoria della grande spinosità dell'argomento schivandolo e dicendo è stata rilevante ok che in realtà è stata risonante a meno che non mi spieghi di che cosa ha detto che cosa è stato rilevante perché non mi ha non mi ha veramente cioè se io volessi capire di che cosa ha parlato la Murgia nella sua vita visto che è stata una grande intellettuale a quanto pare di che cosa ha parlato nella sua vita la Murgia da quell'articolo non lo saprei quindi non ho capito perché è stata rilevante non soltanto risonante assolutamente sì Plumbus è interessante quella cosa che hai detto un articolo che potenzialmente poteva essere scritto lo potevo scrivere anch'io che la Murgia non l'ho mai seguito non l'ho mai letto un suo libro non era minimamente necessario è un articolo che poteva essere scritto senza avere la più pallida idea di chi fosse solo per sentito dire perché tanto si sa le polemiche eccetera eccetera non ha definito la categoria all'interno della quale l'ha inserita o meglio l'ha definita ma in modo no nella Bibbia c'è il femminismo io ero rimasto che nella Bibbia c'erano gli alieni ma addirittura c'è chi sostiene che la Bibbia l'abbia scritta Dio e non so quale sia la cosa più estrema in realtà Dio l'ha dettata o una parte l'ha scritta e una parte l'ha dettata l'ha tutta dettata dettata in spirito è un coccodrillo ma non è un coccodrillo non so capire Dio era un intellettuale l'itinerario della mente presso Dio va bene vogliamo leggere che cosa dice Guia Soncini il caso Murgia potrebbe essere interessante già che facciamo 30 facciamo 31 stiamo sullo stesso argomento non è lunghissimo spero che la voce se ne sta un po' andando vediamo il caso Murgia Dio è stato sicuramente pensa Dio è stato rilevante ma ad oggi non pare sia esistito e quindi è reale è irreale ma Dio è nella vasca insieme a noi i social l'irrilevanza dei libri e il futuro del mercato degli intellettuali siamo sempre sullo stesso tema ok ok dopo la morte la scrittrice e militante sta vendendo molto ma sempre meno di quando l'editoria era un'attività importante e meno di quanti la seguissero su Instagram ora la letteratura serve solo a tenere compagnia come se l'obiettivo fosse mitigare solitudine e disperazione in una prefazione a un'edizione americana di Amori Ridicoli negli anni 70 Philip Roth parla del realismo socialista scansato da Kundera dandone la definizione che aveva sentito da un critico di Praga il realismo socialista consiste nello scrivere degli elogi al governo e al partito in modo tale che persino loro possano capirli esiste oggi nel realismo cuoricinista la possibilità d'essere Milan Kundera e non Pasolini Canetti e non Calvino d'essere un intellettuale ritenuto rilevante senza essere scomponibile in comodi bocconcini predigeriti senza fornire slogan da maglietta tutta questa è una domanda esiste oggi nel realismo cuoricinista la possibilità di essere un intellettuale ritenuto rilevante senza essere scomponibile in comodi bocconcini predigeriti senza fornire slogan da maglietta senza esprimersi in forma riducibile a una card di Instagram io so ma non ho le prove e la leggerezza calviniana che ormai è tutta una parola ora che persino Umberto Eco è diventato troppo sofisticato troppo complesso di troppo faticosa di gestione per farne quel finger food culturale che è l'unico ormai tollerato dal delicato stomaco di un grande pubblico che è intollerante al lattosio al glutine alle contraddizioni e alle parole non confermative intollerante alle contraddizioni va contestualizzato a volte non è un male persino Umberto Eco è diventato troppo sofisticato come dire persino quel merdone di Umberto Eco dipende dai libri alcuni sono piuttosto sofisticati lo spiegava piuttosto bene il miglior articolo scritto in morte di Michela Murgia da Michele Serra su Repubblica Murgia spavaldamente a tratti perfino allegramente esposta come leader di un tutto e subito e di un radicalismo anche linguistico che potevano irritare o appassionare sicuramente molto spendibili in chiave social laddove la dialettica è stritolata nella tenaglia degli amici e dei nemici della ragione tutta da una parte e tutta da quell'altra logica binaria anch'essa vale constatarlo questo è Michele Serra che sta parlando è molto probabile che la sintesi l'andare oltre il superamento di quella furente disputa di genere sui generi per lei fosse la letteratura non perché nei libri parlasse d'altro ma perché ne parlava diversamente meno condizionata dall'ansia di prestazione che costruisce buona parte del pathos social ok solo che c'è un problema che Serra non sottolinea un po' perché è più ben educato di me un po' perché è uno di noi del novecento che non vogliamo rassegnarci a quanto siano residuali i settori che ci hanno allevati e nei quali qui si arriva al punto direi e nei quali ci ostiniamo a muoverci i libri sono ormai un prodotto di nicchia non dico quanto le carrozze a cavalli ma quasi i libri non contano niente i libri non li legge nessuno per me è una grande verità questo è il punto in cui quelli dell'industria editoriale mi spiegano che è fiorente che fattura tantissimo che i fumetti e i libri di ricette vanno fortissimi e li candidiamo pure allo strega giusto per dire che sì l'industria editoriale e i libri veri sono due cose diverse ci può anche stare non mi piace che i fumetti siano considerati monnezoida monnezona come se fossero libri di ricette perché anche un libro di ricette comunque abbiamo capito che cosa intende dire sì di libri se ne vendono tanti tutto è libro ok quanti poi se ne leggano non siano regali eccetera i libri non contano niente è un iperbole ma non del tutto per dare l'esame universitario su essere tempo non puoi leggerne più di tre capitoli altrimenti sfori il punteggio chissà se a quel punto il vecchio Martin lo annoti tra gli autori amati sulle app di lettori forti chissà tra quanti anni ci si potrà laureare in filosofia portando come bibliografia un podcast su Wittgenstein o delle slide su decrescenza ufficialmente dico ufficiosamente probabilmente già adesso vabbè sono un po' così gags però è un iperbole che per dare l'esame su essere tempo non puoi leggere più di tre capitoli però funzionano così oggi Bella Fenrir grazie mille del Prime anche Fugma grazie mille persino nei casi di grandi successi quali sono stati i libri di Michela Murgia i numeri sono quelli che vent'anni fa per non dire cinquanta avrebbero caratterizzato un insuccesso fino alla prima settimana di agosto a qualche giorno prima della morte dell'autrice tre ciotole il libro che era stato annunciato da un'intervista in cui Michela Murgia aveva detto di avere poco da vivere e che era stato primo in classifica per parecchie settimane e poi era comunque rimasto tra i libri più venduti d'Italia nei suoi primi tre mesi in commercio di quel libro lì erano state comprate 90.000 copie molta più gente ha visto un concerto di ultimo chiunque gli sia nella sola Roma nel luglio 2023 di quanta in tutta Italia abbia comprato il libro col più potente lancio promozionale che un'autrice italiana abbia mandato sul mercato negli ultimi anni e molta più gente seguiva Michela Murgia su Instagram di quanta ne comprasse i libri e attenzione molto importante comprare un libro e leggere un libro non sono per niente la stessa cosa se tu vendi 90.000 copie quanti l'hanno letto tutto quanti l'hanno iniziato quanti l'hanno letto tutto sarebbe interessante avere dei dati Michela Murgia è stata coerente fino all'ultimo con la propria identità di rompicoglioni è morta ad agosto costringendo i suoi cari ovviamente detto in modo ironico è morta ad agosto costringendo i suoi cari a tornare precipitosamente da posti mal collegati ma soprattutto è morta nella settimana in cui GFK che si occupa dei rilevamenti delle vendite di libri è inderogabilmente inferi non dando modo agli osservatori di quantificare il valore del decesso per le vendite i numeri di quel che hanno venduto i libri della Murgia dopo la sua morte li avremo solo lunedì ma non ci vuole una sacerdotessa di Apollo per immaginarli lasciati senza GFK i poveri editori in settimana dovevano affidarsi all'impressionismo della classifica Amazon dove un militante che si autopubblica i suoi pensierini oggetto di un quarto d'ora di scandalo per aver detto che mica è normale essere busoni era primo rendendovi più cogente quella domanda che si faceva Enrico Vanzina secoli fa come mai i best seller non sono mai letti dai best reader questa è una bella domanda questa è una bellissima domanda ma soprattutto costringendo noi tutti ad ammettere che quello editoriale è un mercato così minuscolo che un quarto d'ora di polemicuzza basta portarti in cima alla classifica sopra l'autrice più discussa dell'anno inciampo del generale vero maschio a parte dopo la morte dell'autrice tutti i libri di Michela Murgia saranno stati i più venduti di questo paese di lettori deboli e nello scorso weekend tre ciotole avrà superato le centomila copie che sono comunque meno della metà di quelli che per tre sere hanno riempito uno stadio romano per ultimo chiunque gli sia e mi viene in mente a questo proposito quando Marco Giustino parla degli incassi del cinema in Italia quando c'è sempre il mega block non c'è sempre tra l'altro spesso c'è il mega blockbuster possono essere stati film Marvel oppure Barbie è stato un mega blockbuster ma fa vedere i dati dei film non grandi italiani ma spesso anche quelli grandi non sono grandi davvero film che stanno in sala mal distribuiti ci stanno poco e fanno tipo 6.000 spettatori cose di questo immaginatevi un video di Luis quante visualizzazioni fanno per capirci quanto queste vecchie forme di comunicazione in realtà sono molto più discusse di quanto sono viste o lette e quant'altro è quasi un'abitudine residua quella di considerare importante la classifica dei libri o la classifica del cinema ripeto salvo i mega blockbuster che quelli si fanno grandi somme e quindi è veramente interessante considerate che su Amazon il mio libro autopubblicato nella prima settimana è stato marchiato come best seller e quindi anche lì è scivolosa la definizione vedi Federico vedi 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 ok è un quinto di quelli che la seguivano nel posto che se vuoi avere un pubblico in questo secolo è ragionevole presidiare il posto che illude il pubblico che non sia necessario esso sa fatichi che non sia mica quello il punto di avere un intellettuale di riferimento insomma Instagram ha ragione trovo che abbia abbastanza ragione un quinto di lettori di quelli che la seguivano nel posto che se vuoi avere un pubblico in questo secolo è ragionevole presidiare il posto che illude postman pensate a postman il posto che illude il pubblico che non sia necessario esso sa fatichi che non sia mica quello il punto di avere un intellettuale di riferimento insomma Instagram perché una cosa va detta a fronte delle 24 ore che costituiscono la giornata che certo puoi sia stare sui social che leggere nessuno lo nega ma stante che si fanno altre cose a un certo punto è inutile far finta che non sia delle due l'una ogni volta che si parla di libri su un social il posto dove scusate ogni volta che si parla di libri su un social il posto dove dice la sua la gente che non sa esprimersi e non ha intenzione di imparare c'è sempre qualcuno che protesta insomma i libri sono troppo cari possono spendere 80 euro per un concerto ma non 20 per un libro certo che no il verbo non è potere ma volere non vogliono essere costretti a fare la brutta fatica di concentrarsi su una pagina non vogliono buttare soldi per un'esperienza che non potranno Instagrammare ci siamo falso falsissimo madonna quanto Instagrammati quanto Instagrammati i libri no madonna ci si prova in tutti i modi a Instagrammare ci siamo fatti distrarre da resilienza e abbiamo lasciato che quella gramigna lessicale posturale che è esperienza attechisse ok non vogliono perdere tempo con 200 pagine quando basta e avanza o l'intervista Vanity Fair di cui oltretutto c'è la versione video che si condivide molto più comodamente e piace molto di più all'algoritmo della foto alla pagina di giornale quella sì residuale come e più dei libri preferisco molto come scrive lei però non è facile leggerla a voce alta chi fa le pagine culturali e avendo la smania perché molte di questi periodi il tuo cervello li ricostruisce quando li ha finiti e quindi nel frattempo se l'hai fatto ad alta voce li hai letti male chi fa le pagine culturali avendo la smania di non sembrare fuori dal tempo pubblica anche gente con forte presenza social racconta che quegli articoli sono caratterizzati da un'interessante schizofrenia un pieno di cuoricini sulla card che promuove l'articolo sull'account social del giornale e però pochissimi lettori che si prendono il disturbo di cliccare aprirlo due punti leggerlo mi pare in vero un'ipotesi impegnativa è molto 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 vero molto vero grande consenso per la frasetta pochissimo interesse per il ragionamento quasi nessuno clicca i link quasi nessuno li apre leggerli figuratevi madonna mi ricordo su facebook ma che imbarazzo quando linkavi in un articolo c'erano più like a volte più like e commenti di quanti clic avesse avuto l'articolo ora uno può sempre averlo letto in altri modi ma grande consenso per la frasetta pochissimo interesse per il ragionamento d'altra parte oltre a esperienza il concetto più in voga in questo disgraziato secolo è empatia e se promuoviamo il primato delle emozioni poi non possiamo pretendere che le opere di ingegno vengano selezionate con un criterio diverso col cuore che rende intercambiabili Barbara D'Urso e il premio strega molto si è parlato privatamente pubblicamente del funerale di Michela Murgia e in questo senso è esemplare non so se ne parlerà anche lei è esemplare le foto dal funerale che sono diventati un genere letterario se non fosse che non è letterario che sono diventati il genere letterario dei siti di notizie dal post a lanza a tutti quelli lì le foto del funerale di Michela Murgia una roba allucinante mamma mia molto sapere del funerale del rito di massa e quindi inevitabilmente cafone in cui le orazioni funebri venivano interrotte da applausi come raccordi narrativi di un qualunque concerto di ultimo di tizie che non si erano mai viste che si chiamavano l'un l'altra sorella e piangevano insieme per una che pure non avevano mai conosciuto di Ellie Schlein che cantava bella ciao abbracciata Francesca Pascale di Roberto Saviano che diceva la sua orazione con una mano infilata nella cinta dei pantaloni ha già detto tutto Dino Risi sull'Italia a colpire ma è stato a colpire me è stato un dettaglio del dopo il cameraman del sito di Repubblica era rimasto fuori dalla chiesa a inquadrare il niente e a un certo punto gli si è piazzata davanti una tizia del TG1 col mandato più difficile della giornata fermava le ragazze che uscevano dalla chiesa chiedendo c'è qualcuno che è qui perché era una lettrice di Michela Murgia perché leggeva i suoi libri quelle la guardavano come fosse di trasparenza medusiaca era uno spettacolo straziante dopo un po' Saviano è andato via e sia il cameraman di Repubblica sia l'inviata del TG1 che ha capito che le conveniva ripiegare su un obiettivo più semplice l'hanno seguito fino alla macchina lei gli ha chiesto un ricordo personale di Michela per il TG1 e lui ha ottemperato i suoi libri non mi hanno mai fatto sentire solo ed è questo che deve fare la letteratura mi sono ricordata della pandemia all'inizio quando eravamo chiusi in casa la pandemia all'inizio quando eravamo chiusi in casa e tutte le persone famose facevano dirette su Instagram che era proprio quello il loro compito non far sentire soli noi altri normali ma quindi è davvero questo il compito della letteratura o è quello di quello ormai sinonimo della letteratura che è la celebrità è il ruolo di Instagram è in subordine dei libri tenere compagnia alle nostre vite di silenziosa disperazione con parole talmente semplici che persino noi altri noi abbastanza inattrezzati da applaudire in chiesa possiamo capirle e sentirci accuditi è questo il futuro del mercato dell'intelletto se l'intelletto ha un futuro ma lolla che ingamba sta qui mamma mia guia soncini ottimo ottimo quanto è insopportabile e dannoso l'attesamento del lettore contro il non lettore e che gli vuoi dire al non lettore più di leggi che cosa gli vuoi dire bisogna educarlo si parte con la divulgazione mi raccomando mi raccomando sostituiamo lo studio con la divulgazione non è colpa di nessuno sono i mezzi non è questione di lettori o non lettori è questione di mezzi che noi ci ritroviamo ad utilizzare per comunicare e sono fatti così e non colà molto banalmente that's it sì 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 ma io non posso secondo me Astanaia hai ragione ma è un un lavoro davvero di come si dice vuotare il mare col secchiello cos'è quella metafora non c'è nessuna mi permetto quasi di dire che non c'è nessuna colpa nel non lettore viviamo nel mondo della non lettura basta cioè quello che lei sta descrivendo non so quanto lei poi sia di questa opinione ma quello che lei descrive non è un'epoca di persone stronze di persone di merda di persone stupide non è questo è una persona è un'epoca di persone instronzite immerdite instupidite istupidite sta semplicemente ripeto non so quanto sia la sua posizione sta semplicemente facendo un'osservazione su come funziona nei mezzi di comunicazione attuali non c'è altro che le persone sono sempre le stesse non è che sono peggiorate o migliorate la qualità delle persone da una volta ma che cazzo vuol dire certo il clima culturale ha un'influenza ma non è quello il punto il punto è ci è strumentale conveniente comunicare attraverso dei mezzi che sono basati su un certo tipo di comunicazione funzionano attraverso un certo tipo di comunicazione e la concentrazione lunga sul testo lungo è una posa quasi sempre è per finta non c'è veramente basta non c'è niente non c'è niente di non so se ci sia in questo articolo ma non dovrebbe secondo me esserci un moralismo perché non puoi fare la morale a Instagram Instagram ma proprio inteso faccio Instagram qua perché cita Instagram non puoi fare la morale a Instagram Instagram inteso come il mero strumento il mero software letteralmente che cazzo gli fa la morale non è neanche una persona ma in ogni caso non puoi fargli la morale perché Instagram ha la sola funzione di funzionare meglio funzionare sempre meglio adattandosi è quello che deve fare cioè il suo lavoro è quello Instagram inteso anche come l'azienda che ci lavora dentro è dietro basta abbiamo a disposizione tecnologie che rendono desueto assolutamente passé come si dice un altro modo di acculturarsi e comunicare a un certo punto è anche inutile lamentarsene perché che cazzo vuoi fare non esiste questa è una cosa molto importante non esiste che da dentro tu lo cambi non esiste è inutile che usi TikTok per fare divulgazione di fisica ok facendo divulgazione di fisica su TikTok tu stai promuovendo TikTok verso un'utenza che non avrebbe conosciuto TikTok il peggiore dei disastri possibili e non è studiare fisica faccio per dire quindi niente vedremo al prossimo paradigma molto semplicemente vedremo al prossimo paradigma tecnologico che nessuno di noi può immaginare e non possiamo sapere quale sarà vedremo al prossimo paradigma tecnologico quale saranno le modalità della comunicazione viene difficile pensare però che la strada non sia quella sempre della brevità superficialità e quindi rissosità emotività così da libro cuore eccetera il discorso del funerale è allucinante il discorso del funerale è allucinante però ripeto mi fa venire in mente un film di Dino Risi che è i mostri e il film di Dino Risi non era all'epoca di TikTok è una che twitta madonna è una che twitta mamma mia twitter oh se fallisce ragazzi se fallisce dovremmo dire qualcosa di buono se fallisce dovremmo dire qualcosa di buono di Elon Musk se riesce a far fallire chiudere twitter avevo messo qua proprio un articolo sempre di lei ma prima di avere idea che fosse comunque questa autrice molto particolare interessante proprio su Elon Musk perché mi incurisiva il latifondista del futuro la vanità di Elon Musk il maschio alfa è il declino dell'ex elite giornalistica però magari quant'è che siamo in live due ore e ventuno stiamo sudando magari ce lo teniamo per la prossima volta anche questo magari lo leggiamo questo in realtà è molto interessante perché è sull'ambito letterario che dovrebbe essere quello che si salva e non si salva e quindi sarà da leggere va bene va bene va bene wow ragazzi io veramente non so tra l'altro che cazzo i capelli ho sembro un prete sembro un prete ragazzi è fatta è fatta pensa te Guia soncini cerca il suo stesso nome su twitter perché l'avevo menzionata senza interagirci direttamente mi ha bloccato ma pensa la run veterana se intendi Metal Gear l'ho vista tutta ma io non ci tratto con quelle persone la selezione dell'interlocutore è molto importante ne ho parlato tante volte semplicemente per provare a preservare se stessi nulla da cercare ah social è figo sì sono contento che ti sia piaciuto bravo 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 cioè complimenti per aver deciso di leggere quel libro proverò Armored Core non credo dai rilassiamoci un po' di cose che ci piacciono di più tipo i videogiochi sicuramente il giorno X che non ricordo di settembre esce Mortal Kombat 1 che è un reboot se non ho capito male perché non so chi crea un nuovo universo frega cazzo allora partendo dal presupposto che mi ha sempre fatto cagare Mortal Kombat non mi ha mai fregato un cazzo Mortal Kombat mai giocato vabbè ok Mortal Kombat sul Super Nintendo Mortal Kombat 2 ho vissuto quell'epoca lì ma comunque veramente Mortal Kombat sempre preferito Street Fighter Mortal Kombat proprio nada per me lo comprerò al lancio e lo giocherò dal day one perché perché mi piacciono voglio voglio fare esperienze e pratichermi coi picchiaduro e che ne sai magari a me Mortal Kombat non è proprio che mi esalti però magari è un gameplay che mi piace e sti cazzi quindi lo farò 17 settembre bella lì e quindi l'ho visto ho visto un bel po' di roba perché comunque tutti i soliti super player hanno provato il gioco in anteprima eccetera eccetera falso finale veramente ragazzi vi darò del content ancora sto per teorizzare sul mondo dei videogiochi in modo ineccepibile ineccepibile non avete idea di cosa vi sto per mostrare Michael Johnson chi di voi si ricorda Michael Johnson Michael Johnson è stato uno dei più grandi è stato uno dei più grandi corridori di atletica di tutti i tempi forse un pochino oscurato dall'epoca di Usain Bolt però Michael Johnson uno dei più grandi corridori di sempre Michael Johnson no come dopato PD come dopato Michael Johnson ma come dopato PD no ma anche Michael Johnson quello era Ben Johnson no Ben Johnson lo vedi in diretta lo vedi in diretta pensate che ero picco nell'88 io ho visto in diretta la gara che Ben Johnson batte batte si può dire si Carl Lewis comunque Michael Johnson non lo so non credo fosse dopato l'ho visto in diretta doparsi ragazzi stiamo stiamo perdendo stiamo abbattuto i record di Bennea bravissimo ragazzi Michael Johnson Michael Johnson era un corridore eccezionale sui 200 e 400 metri lui aveva questa caratteristica non so però se clicco poi è tutto copyrightato poi su youtube mi tocca toglierlo spero che vi basti questa immagine ah si vede un po' di anteprimina dai parti parti tre minuti posso andare avanti posso andare avanti solo rimanendo qua che cazzo l'hai fatto presto ad arrivare in effetti se no non saresti Michael Johnson beh non so se si vede bene vabbè comunque lui si vede un pochino lui è quello davanti lui aveva questa caratteristica di correre correva un po' ma grazie Filz che mi hai tolto le prove un po' come se avesse la classica scopa in culo correva veramente con questa schiena dritta no e un po' il culo a pap però comunque aveva questo questo stile però sti cazzi andava molto forte quando io penso a Mortal Kombat mi viene in mente il modo che aveva di correre Michael Johnson perché ogni singolo Mortal Kombat da Mortal Kombat 1 a Mortal Kombat 1 io non so perché i cazzo di personaggi di Mortal Kombat hanno tutti la scopa in culo sono tutti sono tutti sempre così hanno sta cazzo di rigidità del busto fateci caso da sempre Mortal Kombat sono tutti di Michael Johnson è allucinante è allucinante è incredibile quindi ora avete avuto un'immagine che vi accompagnerà una chiave interpretativa che vi accompagnerà ma già che sono in vena vi darò un'altra chiave interpretativa vediamo se capite dove sto andando a fare aspettate Maradona palleggia e questo è il famosissimo qui c'è una canzone copyrightata questo è il famosissimo video che c'è quella canzone nota di quegli anni lì che non mi ricordo qui lui sta solo ballando però dopo lo si vede palleggiare Diego eccolo qua questo è Maradona che palleggia grazie reato di bio dell'autore life is life esattamente molto famoso questo video e questo è Maradona che palleggia non ci credo non ci credo no vabbè no madonna madonna no vabbè io non so cosa dire che grande utenza bravissimo pletticosa questo invece è Tekken questo è Tekken mentre Mortal Kombat è Michael Johnson Tekken è Maradona che palleggia e tu hai questi combattimenti in cui a un certo punto tu hai il lottatore avversario che è sdraiato a mezz'aria e quello continua a farlo volare più sei bravo esattamente come il calciatore come Maradona più sei bravo più a lungo palleggi Tekken è Maradona che palleggia e niente queste vedete il falso vedete che perle che c'erano ancora da darvi solo per voi questo era il falso finale e Street Fighter non lo so Street Fighter sono un po' dei lentoni con questi piedoni boh faccio fatica faccio fatica con sotto Life is Life ovviamente sì 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 Silent Hill 2 l'ho giocato e poi recuperare la mia blind run completa che sono poi quattro puntate su so always a play che cosa volevo dire quindi niente sarò curioso di provare Mortal Kombat e sti cazzi voglio di vedere un altro gameplay di un picchiaduro appena uscito perché come sapete il periodo dell'appena uscita il primo mese purtroppo di uscita di un picchiaduro è quando ci sono più novizi più gente del mio livello e quindi non giochi solo con i pro e questo serve per farci un pochino di insomma mi piace la Steam Deck va molto bene molto molto bene Salvo Thiel esattamente Starfield boh diceva Maximilian Dude che il periodo dura circa un mese non so poi quanto possa essere reale Starfield boh è figo esatto Mortal Kombat è molto più casualone Baldur's Gate ragazzi non ci sta tutto nella vita non ci sta tutto al momento non ci sta tutto nella vita però vedremo so che spare dicono che sia bello adesso sono un po' intrippato coi picchiaduro vediamo vediamo si va sempre un po' a periodi dai comunque sia Starfield non mi ricordo neanche che cosa sia è fatto da quelli di Skyrim a posto massimo rispetto ma per me rimane lì ok 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 uno Skyrim nello spazio diciamo ok 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 e Guilty Gear Strive no perché non l'ho comprato però nella mia vita giocato male io ho iniziato a giocare seriamente poche settimane fa seriamente e faccio schifo ma nel senso ho deciso che mi intrippo coi picchiaduro però ho comprato su Playstation 3 comprai la versione PS1 del primo Guilty Gear giochicchiato così ci avrò 15 minuti al massimo e ho giocato non più di un'ora grazie ai Google non più di un'ora a quello prima di Strive Rev 2 X Rev non mi ricordo il titolo completo che è figo però non c'è non mi ci sono messo davvero non mi ci sono messo davvero che gira anche su Steam Deck tra l'altro eh ma Strive i novizi sono un po' spariti è troppo tempo che è fuori è già troppo terreno di caccia di gente troppo brava io ho bisogno di iniziare a giocare quando tutti iniziano a giocare Case no Case ti chiamerò semplicemente Case e ho già detto che quando uscirà io lo giocherò al Day One Granblue Fantasy vs Rising assolutamente sì ma quello lo sto proprio puntando l'ho già messo in wishlist su Steam perché avrà anche i comandi moderni diciamo moderni cioè con le super mosse che sono un solo input questa cosa tra l'altro è interessante vedevo oggi il video di un pro super pro player che parlava di questo argomento Bella Warm grazie mille il discorso dell'evoluzione dei comandi nei picchiaduro è molto probabile che quello che c'è in Street Fighter i comandi chiamati modern siano il futuro dei picchiaduro punto e basta perché tu non fai tutta quella fatica per fare quei giochi per venderli a poca gente con un drop rate praticamente istantaneo ok tu hai bisogno che i noob lo comprino e continuino a giocare bella user Berto grazie mille e non si sentono frustrati dal fatto che c'è troppo sbattimento per imparare Street Fighter 6 Bella Afiob grazie mille del Prime Street Fighter 6 e lo trovate su YouTube cosa nota doveva uscire solo con i comandi modern e poi per insistenza interna hanno messo i comandi classici peso molto peso ma soprattutto sapete che Riot Games quella di League of Legends sta sviluppando un picchiaduro esatto bravissimi siamo telepatici sta sviluppando un picchiaduro il cui nome provvisorio è Project L che chiamare anche solo come nome provvisorio Project L che sembra progetto sconfitta non è il massimo questo picchiaduro ovviamente sarà ambientato nell'universo di League of Legends a me frega niente perché non ci ho mai giocato League of Legends però ho giocato a Legends of Runeterra e anche a Legends of Runeterra solo per un breve periodo e ho giocato anche a quell'RPG si può anche recuperare su Esaplay che ci ho fatto un paio di live Ruined King molto interessante il sistema di combattimento abbastanza scialbo il resto comunque quindi un po' ho presente alcuni personaggi ma al di là di questo che cosa significa? Significa che è ben possibile che questo nuovo picchiaduro che uscirà presumibilmente nel 2024 farà numeri anche superiori a quelli di Street Fighter 6 al lancio è ben possibile che questo nuovo gioco in quella che stiamo vivendo adesso che è un rinascimento dei picchiaduro questo è l'anno dei picchiaduro lo sarà anche il prossimo è possibile che questo nuovo gioco sia un'ulteriore spinta incredibile per il genere del picchiaduro è sviluppato con grandissima attenzione è già stato provato dai soliti Super Pro si sono visti tanti video tantissime prove tantissimi commenti analisi ed è un gioco della madonna cioè molto raffinato tag team fatto bene sembra un gioco veramente serio fatto molto molto bene per assolutamente coinvolgere in realtà poi i grandi giocatori che sono anche alcuni grandi influencer della scena dei fighting games ma questo gioco promettente a mio avviso anche graficamente bello e c'è già un personaggio che ho battezzato ovviamente la tizia con le nove code questo gioco avrà comandi stile modern cioè avrà gli input semplificati attacco debole medio forte super mossa 1 super mossa 2 che poi a seconda della direzione è tutta una pletora di super mossa più il tag per chiamare l'assist dell'altro giocatore in più si potrà giocare in due contro due esseri umani per cui uno sta in panchina richiama l'altro si interviene eccetera eccetera oppure uno contro due due contro uno eccetera molto molto promettente tantissimo budget possibile un grande riversamento di utenza dagli altri giochi riot eccetera eccetera è un titolo che ovviamente giocherò al lancio è un titolo che potrebbe davvero cambiare la storia dei picchiaduro perché va ulteriormente a stabilire che non ci saranno più non mi ricordo qual è il termine corretto per definirle e ovviamente sarà free to play sarà free to play i paghi i giocatori i paghi i personaggi no per scontato oltre a qualcuno che ti sarà dato usabile subito vanno definitivamente a sparire le sequenze di comandi stile gli aduken gli shoryuken e ancora di più le cose alla zangif eccetera quindi è possibile secondo me non da escludere che nel futuro i picchiaduro con quella tipologia di comandi magari verranno ancora fatti per le stranicchie ma è possibile che i picchiaduro vada in realtà ad essere tutti con le super automatiche con un solo tasto il che non necessariamente toglie tecnicità perché poi da un daigo che poi daigo ormai è vecchio però le straprendi sempre comunque anche se si gioca con un tasto solo quindi figuriamo saper giocare a quei giochi è giocare a scacchi alla velocità della luce è una roba allucinante però comunque sia è molto più accessibile molto molto più accessibile io faccio ancora fatica a fare calcio medio a Duken io non riesco a farlo in allenamento la faccio in gioco non sono ancora riuscito a farlo una volta quindi per dirvi le circle motions grazie grazie e quindi io vi dico la verità è ovvio che io beneficio di questa cosa perché sono una pippa però sono molto positivo cioè per me è una cosa molto positiva perché ci va ad essere più gente che gioca ma soprattutto più gente che continua a giocare e quindi più possibilità di fare dei match una community più grande secondo me ha solo dei pro e tanto i più forti continueranno a vincere questa cosa secondo me rimane quindi non la vedo un'ingiustizia insomma vediamo vediamo come sarà è vero è vero quello che dice Blueva molto vero che potrebbe anche essere distruttivo nel senso quali saranno i budget per i tornei competitivi potrebbe essersi una sproporzione rispetto a qualunque altra casa quello che può mettere in campo esattamente potrebbe essere potrebbe assolutamente essere forse Capcom qualcosa certamente il futuro per cose come SNK si fa molto molto grigio è vero che SNK ha messo in King of Fighters 15 le combo automatiche e sono tante perché sono diversificate parti sempre con il pugno leggero ma ne hai diverse e quello è un esempio a parte che le avrei messe disattivabili perché poi ad alcuni giocatori danno fastidio perché possono interferire e ci stava a renderle disattivabili però quello è un bel esempio di un gioco che ti fa avere un po' di soddisfazione anche se sei una pippa ma comunque non batterai mai nessuno se non impari a giocare non è male secondo me non è una cattiva idea capisco le lamentele di chi li vorrebbe disattivare non può ma non è una cattiva idea la trovo una cosa carina fermo restando che King of Fighters è bellissimo la direzione artistica non mi piace sono d'accordo con Maximilian Dude che diceva c'è un problema cromatico di troppa uniformità cromatica tra quello che è in primo piano e quello che è sullo sfondo ed è veramente evidente per quello che è un gioco che non ha più il visivo nonostante i personaggi alcuni siano veramente fighi e lo stile i modelli dei personaggi per quanto low budget non siano male il design dei personaggi mi è sempre piaciuto quello di SNK ha questo problema qui però il gameplay cioè il cuore per me quello è il massimo se devo proprio dire la verità cioè per me è molto più bello King of Fighters di Street Fighter però vado dove ci sono tutti in questo momento eh sì 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 il 13 allora King of Fighters 13 che è il massimo della difficoltà possibile per quanto possibile no però comunque è un gioco notorialmente molto molto esigente per gli input eccetera il 13 ha uno stile notevole uno stile che poi nessuno elogia mai il 12 ma il 12 io non l'ho mai giocato però so che è molto manchevole però almeno dire al 12 sì ma guardate che lo stile del 13 nasce nel 12 perché qualcuno potrebbe dire ogni tanto comunque quello stile grafico lì è notevole è bellissimo ovviamente nel 13 ancora più animazioni personaggi eccetera però è molto figo però non sono un fan di certo uno stile un po' deformato del pubblico i fondali sono belli ma non sempre mi fanno impazzire e non sempre mi fanno impazzire certe luci certi colori è un gioco fighissimo esteticamente però ok non è che sia esente da critica anche l'aspetto estetico secondo me è estetico nel senso grafico ok comunque sia comunque sia adesso usciranno Fatal Fury adesso l'anno prossimo sicuramente certo che lo sono Orso Blu assolutamente sì lo sono ma sono talmente skill based che come posso dirti in realtà non è giusto considerarli necessariamente tali perché è chiaro che non c'è una fine a meno che non si intenda la fine dello story mode però non sono giochi in cui è facile andare avanti cioè richiedono veramente una grande dedizione e in questo assomigliano davvero agli scacchi vedere i video degli esperti è assurdo e poi che poi non vanno troppo mitizzati nel senso che ho visto diversi video in cui si analizzano i frame eccetera eccetera ma ammettono anche che non è tutto cioè è interessante c'è un aspetto dei picchiaduri che è molto affascinante che è quello dello stack mentale per cui tu non puoi veramente processare tutte quelle opzioni a quella velocità e quindi in realtà da quello che ho capito i veri pro si costruiscono dei pattern delle per un certo senso degli automatismi per cui in realtà non stanno veramente leggendo tutto quello che succede fanno in modo di affidare al pensiero veloce per così dire il più possibile perché se no l'esborso cognitivo è troppo è troppo non ce la fai è molto molto interessante questa cosa i diagrammi di flusso assolutamente sì assolutamente sì c'è proprio chi fa questi diagrammi di flusso allucinanti per cui a data cosa corrisponde a data cosa e cerchi di automatizzare ma non sei una macchina quindi sicuramente giocare picca dura ai più alti livelli porta le persone al limite umano veramente al limite umano perché un rapporto cervello mano cioè il cervello lavora tantissimo ma da morire lavora si giocano tantissimo col cervello e picchiaduro ma poi la manina la manina deve essere spedita pazzesco sono un genere veramente folle 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 sì sì poi c'è tutto il discorso di farsi le trappole cioè il meta ovviamente è davvero molto molto affascinante io lo faccio proprio perché la vedo come vi dicevo anche un po' scherzosamente per carità però come un'attività autotelica nel senso mi dà gusto in sé non ho nessuna reale ambizione non so perfettamente che non avendo io il tempo da metterci reale non diventerò mai veramente bravo però quel minimo minimo anche solo di esperienza di saperne prendere un picchiaduro nuovo esce e quel minimo di basine fondamentali basta tutto qui ma proprio per il piacere che è questo piccolo esercizio tutti i più in gamba e questo Maximilian Doodle lo dice ad aperte lettere altri magari lo dicono in modo un pochino più tra le righe più ore ci giochi più sei bravo fine fine ora magari hai dei difetti eccetera eccetera però è quanto tempo è quanto tempo ci metti e ce ne devi mettere veramente tanto c'è Diaphon si chiama che è uno youtuber streamer insomma che è anche un grande giocatore credo sia la Kimberly più forte al mondo in Street Fighter 6 e lui spiegava che non bisogna farsi ingannare non è assolutamente una questione di riflessi e lui faceva il test dei riflessi e faceva lo stesso numero che faccio io forse anche un po' peggio cioè nel senso non è assolutamente una questione di riflessi è una questione di esercizio allenamento memorizzazione esecuzione e fai e rifai e rifai era interessante perché questo giocatore super pro che sta ovviamente al massimo livello che non mi ricordo come si chiama analizzava le partite tipo a livello Diamond comunque dei livelli altissimi e faceva vedere tutte le ingenuità di questi giocatori la prevedibilità delle mosse cioè delle robe che a me sembrano marziane e diceva no questa cosa è molto prevedibile questa è una cattiva lettura perché questo non è riuscito a punire con la combo cazzo fai ti rendi conto che c'è sempre un livello oltre 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 bello affascinante anche fine a se stesso naturalmente ci mancherebbe altro è un allenamento per la mente sì è un allenamento per la mente che non è solo allenamento per la mente perché comunque c'è la mano c'è la componente del fisica che è molto molto presente ma è figo è un genere che io ho sempre ammirato giocato a cazzo di cane fin da bambino da The World Warrior or in poi sempre comprato una marea di picchiadure su tutti i sistemi che ho avuto per giocarci mai più di un'oretta fare lo story mode giocare col computer io a Street Fighter giocavo inizio con Guile perché da bambino non sapevo neanche fare la Duken ma appena ho iniziato a saper fare le mosse io giocavo solo contro il computer a livello 1 anche in Street Fighter Alpha 3 magari livello mediano non necessariamente livello 1 salto calcio Shoryuken Tatsumaki Shoryuken a Yosa che è una roba che non la puoi fare assolutamente nel mondo reale di quelli che giocano e quindi e quindi insomma per me è un genere che non ho mai mai davvero giocato della Senpai grazie mille del Prime eh non lo so Rob è probabile magari fosse così Semino magari magari non è facile volare Super Mario World ma si fa si fa cioè volare costantemente senza cadere senza lentamente cadere comunque sia insomma però ovviamente non escludo altre tipologie di titoli è che al momento non ho un titolo che sia un po' avventuroso ma anche interessante da dire si potrebbe fare una blind del titolo X del titolo Y non mi vengono in mente cose da recuperare e Mario Uombo sì ma ho talmente tanto giocato i giochi di Super Mario e platform che non è che proprio sono qua che sbavo insomma con le robe con le robe Nintendo sono un pochino saturo bella l'Elex grazie al Prime quindi la blind su Limbo c'è già e su Esaplay quindi a parte l'espansione il DLC quando sarà di Elden Ring al momento non c'è una roba che mi fa dire si fa la blind di questo quindi Portal 2 c'è già la blind una pazza per gente che non ce la può fare sì 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 Rob il picchiaduro ha questa purezza ha questa purezza perché è puro puro no non l'ho preso perché comunque li ho già giocati troppo è veramente il puro gameplay è soddisfacente giocare contro gli avversari umani è soddisfacente l'aspetto dell'apprendimento rispetto al gioco di guida ha un pregio ha il difetto nel senso che non ha il volante che è un oltre da un punto di vista dell'esperienza incredibile clamoroso in più tu con il picchiaduro premi un tasto e qualcuno tira un pugno con il volante gira il volante qualcuno gira il volante intendiamoci ma un pregio rispetto ai giochi di guida c'è quando tu fai una gara in un gioco di guida non rispetti solo le regole del codice del gioco ma ci sono altri giocatori che possono rovinare la gara e chiunque abbia mai giocato online ne sappiamo qualcosa abbia mai giocato online a un gioco di guida sa che la gara rovinata è l'ordine del giorno non c'è il suo compagno è stato spinto giocavano ad iRacing a Spa l'ha inseguito l'ha buttato fuori a qualunque livello queste cose ci sono e quindi il gioco di guida si basa sul fatto che gli altri giocatori collaborino con te a rendere bella l'esperienza diciamo così e non è sempre possibile perché poi a volte sei tu quello che sbaglia nel picchiaduro il mio avversario non può rovinare la partita mi deve menare e qualunque cosa faccia è lecita perché il gioco la prevede fine ah quello lì gioca in umano eh sti cazzi devi imparare a batterlo fine e questa è una cosa notevole perché ne sa ne sa cioè il picchiaduro ti dà un'immediatezza un ta si parte subito via non ci sono scuse di nessun tipo non può esistere nessun tipo di basta è pura 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 distillata abilità del giocatore non c'è nient'altro e basta molto figo non ti puoi lamentare di nulla puoi farti tamponare dal campione del mondo questo è vero questo è vero questo è vero e quindi vediamo ragazzone io vi ringrazio direi di aver seguito questa live abbiamo parlato di tante cose spero Frazuk che non non so se Frazuk non ha seguito la live spero che tu non te la prenda spero che avrai voglia di scrivere altri articoli bella caratterist grazie mille del Prime io mi faccio prendere su certe cose ma vai vai a perdere non è assolutamente una cosa personale verso di te diteglielo diteglielo mi raccomando se avete modo di contattarlo mamma mia è soprattutto verso i filosofi che hai messo nel calderone e poi sicuramente saranno dei passaggi che sono io che non ho capito ci mancherebbe altro detto questo detto tutto ragazzi è il 22 agosto finché c'è questo caldo tremendo nulla è in programma quando finirà il caldo tremendo e avremo settembre si parlerà di una programmazione grandissima calma vi ringrazio molto per aver seguito buonanotte direi sull'evento di madonna buonanotte ragazzi tenete botta teniamo tutti botta grazie a tutti